Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti e benvenuti al seminario di oggi. Come avete avuto modo di vedere iscrivendovi, questo seminario ha per oggetto le tematiche più attuali del turismo enogastronomico, con particolare riferimento alle imprese ristorative dell'area della destinazione turistica Bologna e Modena. Come prima cosa mi presento, sono Matteo Beghelli e lavoro per Union Camera Emilia-Romagna. Union Camera Emilia-Romagna è l'associazione che riunisce e rappresenta le camere di commercio attive in questa regione. Voglio poi ringraziare come prima cosa tutti voi che avete deciso di partecipare a questa iniziativa, tutti i relatori, la moderatrice, ma anche tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte a monte e a valle di queste attività per renderle possibili. Le voglio ringraziare per il loro lavoro di squadra che non è affatto scontato. Questo seminario, come gli altri svolti e quelli che ancora ci aspettano, fa parte di un progetto che prende il nome di Valorizzazione del Patrimonio Culturale e del Turismo, che è finanziato da un fondo nazionale delle camere di commercio, che si chiama Fondo di Perequazione. Questo progetto prevede diverse azioni, tra cui appunto azioni di formazione e informazione delle imprese del settore turistico. Venendo al tema di oggi, possiamo dire, senza tema di essere smentiti insomma, che il momento che stiamo vivendo è sicuramente un momento di fortissima crisi di grande discontinuità con tutto ciò che abbiamo vissuto e con tutto ciò che pensavamo che avremmo vissuto fino a undici anni fa. La cosa migliore che si possa fare in un momento come questo, in cui le regole cambiano velocissimamente, di maniera radicale, è investire in consapevolezza. Solo la consapevolezza, infatti, può permetterci di prendere le migliori tra le decisioni possibili in questo che è un momento dove sicuramente si plasma il contesto competitivo dei prossimi anni. Proprio in quest'ottica, Union Camera Emilia-Romagna, in collaborazione con le Camere di Commercio della Regione, ha realizzato questo ciclo di seminari che vedono la collaborazione di APT regionale e delle tre destinazioni turistiche. Oggi in particolare la destinazione turistica Bologna-Modena, che ovviamente ringrazio per la partecipazione. Tutto è stato poi realizzato con il supporto di ISNART, che è la società del sistema camerale specializzata sui temi del turismo, e devo poi anche ringraziare Union Camera Nazionale, che gestisce il fondo a cui facevo riferimento prima, perché ci ha permesso di riorganizzare questo progetto alle luce delle tematiche post-rallivalta dalla pandemia da Covid-19. Come avete visto, appunto, iscrivendovi, i seminari sono stati organizzati geograficamente in base alla destinazione turistica di pertinenza, diciamo così, delle imprese, ma in base anche alla tipologia specifica di imprese, distinguendo imprese del settore ricettivo, del settore ristorativo e delle imprese produttive, food and wine. Un occhio di riguardo è poi stato rivolto alle aree turistiche emergenti, cioè quelle aree che non sono ancora fermate e consolidate come mete turistiche. Prima di passare la parola, permettetemi di farvi una piccola raccomandazione. Tenete sempre monitorati i siti delle Camere di Commercio e di Union Camera Emilia-Romagna, perché soprattutto in questo momento sono molte le iniziative e le attività per le imprese, svolte anche in collaborazione con la Regione e con gli altri enti, così come molti sono i servizi e le attività che coinvolgono le imprese stesse. Ma su questo non dico altro perché so che la collega Paola Frabetti ritornerà su questo tema tra poco. Allo stesso modo mi sento di raccomandarvi di tenere d'occhio i siti di APT, delle destinazioni turistiche e di ISNART. Mi appresto quindi a passare la parola alla moderatrice di questi seminari. Abbiamo infatti il piacere di avere tra di noi, in qualità di moderatrice la dottoressa Luisa Puppo che ci accompagnerà durante tutti questi incontri. Luisa Puppo è imprenditrice, titolare di Welcome Management e consulente, opera nel marketing delle PMI e della microimpresa nel settore del turismo e della enogastronomia, con particolare focus specialistico sulla realtà italiana. Lascio dunque volentieri la parola alla dottoressa Puppo che vi presenterà le regole di ingaggio, non prima però di aver dato la parola Paola Frabetti, rappresentante di APT e della destinazione turistica Bologna-Modena. Buon webinar a tutti quindi. Grazie, grazie a Matteo Beghelli e a Union Camere Emilia Romagna e a tutti gli organizzatori e promotori di questa iniziativa, di questa rassegna che come si stava anticipando poc'anzi è praticamente verso la fase finale di svolgimento, è quasi un mese che stiamo lavorando insieme. Io passo immediatamente la parola alla dottoressa Paola Frabetti, Union Camere Emilia Romagna, per la presentazione del progetto Deliziando, il turismo enogastronomico di qualità, iniziative e opportunità a favore delle imprese. A te la parola Paola, buon lavoro. Grazie Luisa, grazie Matteo, grazie a tutti i relatori, colleghi, a tutti quelli che sono con noi per questo nostro pomeriggio insieme. Come diceva Matteo, io sono Paola, Paola Frabetti, lavoro anch'io per Union Camere Emilia Romagna e da oltre 20 anni sono responsabile dell'internazionalizzazione del settore agroalimentare. Grande privilegio, grande fortuna lavorare in questo settore, in questo ambito che nella nostra regione rappresenta, ha rappresentato e continua a rappresentare un settore di grandissima rilevanza, di grandissima importanza e che ha messo a sistema associazioni, istituzioni e sistema produttivo emiliano-romagnolo per realizzare molteplici attività, ciascuno nell'ambito della propria mission a sostegno e a supporto del nostro territorio. Delistiando, Delistiando che cos'è? È un progetto, un progetto di sistema, quindi così come voi state vedendo diversi e molteplici soggetti oggi qui presenti e che andranno a declinare per la propria materia di competenza le tematiche che abbiamo concordato, Delistiando stesso è sinonimo di quello che stiamo facendo oggi, cioè è un progetto di sistema. Più istituzioni hanno deciso di convogliare le proprie attività e le proprie mission per supportare le nostre imprese a essere presenti sui mercati esteri a promuovere le proprie produzioni in maniera collettiva. Quindi è nato nel 2008 per volontà dell'assessorato all'agricoltura, la direzione generale per promuovere e valorizzare soprattutto sui mercati esteri il ricchissimo panorama, il ricchissimo paniere dei nostri prodotti. Siamo la prima regione in Europa per numero di produzione certificate, ma siamo anche la prima regione in Europa che ha portato avanti leggi per la produzione a qualità certificata o la produzione biologica. Quindi istituzioni regionali che da sempre hanno supportato in maniera incisiva l'intero comparto. Quindi l'assessorato all'agricoltura con i propri partner, i consorsi di tutela, l'enoteca, le associazioni alberghiere, le associazioni di chef, casa Artusi, Alma, hanno sviluppato e continuano a sviluppare una conoscenza più approfondita dei prodotti, sia nelle diversità delle produzioni che negli abbinamenti cibo-vino, in accompagnamento con tutti i propri partner istituzionali. E noi, non intendo come sistema camerale, Union Camera in particolare, ma per, a nome e per conto delle camere di commercio che sul territorio sono il punto di riferimento di ciascuno di voi, abbiamo inserito, abbiamo affiancato alla promozione, diciamo così, istituzionale, una promo commercializzazione dei prodotti. Quindi, dopo aver delineato, presentato, specificato le caratteristiche dei prodotti, gli abbinamenti e averlo fatto in maniera incisiva e continuativa, i prodotti dovevano essere poi trovati sui mercati sui quali noi facevamo questo tipo di attività. E quindi l'affiancamento del sistema camerale attraverso di noi e attraverso le camere, la partecipazione delle imprese e dal 2015, dopo Expo Milano, il nostro progetto è diventato deliziando il turismo enogastronomico di qualità. Quindi, diciamo così, l'allargamento o l'affiancamento, perché in realtà non era istituzionalizzato, ma di fatto c'era, perché quando noi parliamo dei nostri prodotti parliamo di territorio, quando parliamo di esperienze, quando parliamo di territorialità, di marketing, di web marketing, automaticamente parliamo di prodotti che sono per forza legati ad un territorio. Ma dal 2015 abbiamo, diciamo così, istituzionalizzato anche l'aspetto turistico integrando nella nostra attività anche APT Servizi, di cui vi parlerà Roberta fra pochissimo, che è l'Agenzia per la promozione turistica della Regione Emilia Romagna e del sistema camerale. E quindi abbiamo affiancato anche questa parte così importante nella promozione dei nostri prodotti e dei nostri vivi. Il settore è sicuramente interessante, è molto coinvolgente, lo vediamo quando dialoghiamo con i nostri operatori, soprattutto esteri, perché probabilmente per noi alcune cose sono un po' scontate, ma in realtà la ricchezza che noi abbiamo, che è a 360 gradi sotto tutti gli aspetti, l'abitudine a vivere esperienze uniche, probabilmente ci rendono unici anche in quello che per noi è quotidianità, ma che per chiunque altro così non è. Quindi si tratta, e concludo e lascio la parola, di un lavoro, un network di sistema organizzato che ha portato e continuerà a portare risultati, perché quest'anno, nonostante l'hanno così tribolato, siamo riusciti lo stesso a portare avanti attività sotto tutti e tre i settori, quindi food, wine, promozione istituzionale, ma anche turistica, continueremo a farlo nel 2021, siamo in fase proprio di raccolta risultati 2020 e programmazione 2021. Quindi termino anch'io dicendo, come ha detto il collega Matteo, tenete assolutamente monitorati i siti delle camere di commercio e di tutti gli altri nostri partner, perché attraverso di essi verrete poi a conoscenza delle attività che andremo a fare. Quindi buon webinar anche da parte mia. Grazie mille, grazie mille e passiamo la parola adesso a Roberta Moretti per l'intervento di APT regionale, organizzazione della promozione turistica in Emilia Romagna. Buongiorno, un saluto a tutti quelli che sono intervenuti oggi. Mi chiamo Roberta Moretti e lavoro appunto per APT Servizi della Regione Emilia Romagna. APT Servizi è costituita sia dalla Regione Emilia Romagna per il 51 e delle 49 dalle camere di commercio, quindi per questo motivo un partner nativo e consolidato per un non camere e i progetti produtati. L'obiettivo, la mission principale di APT Servizi è quella appunto di sviluppare l'incambio turistico, in particolare il 90% delle sue attività dovrebbe essere dirottato appunto nell'intercettazione dei mercati esteri. Chiaramente ci siamo trovati in questi ultimi anni ad affrontare una serie di modifiche, in particolare relativa alla legge che ha modificato l'organizzazione turistica della Regione Emilia Romagna. Siamo passati da un'organizzazione che era rivolta alle unioni di prodotto ad una organizzazione invece che si riferisce a tre destinazioni turistiche di cui appunto il dottor Stanzani che mi seguirà, definirà quelle che sono le attività della destinazione turistica Bologna-Modena, le altre sono destinazione Emilia e destinazione Romagna. Il riassetto legislativo è stato piuttosto complesso perché siamo passati da una realtà che collaborava molto con i privati proprio perché questo è uno dei palinsessi della ex legge 798 ad una delle destinazioni che invece si muovono in ambito turistico praticamente pubblico. Quindi si è svolta veramente una rivoluzione in quello che è stata la materia turistica e di conseguenza le attività. Ci siamo trovati poi nel corso del 2020 ad affrontare una situazione che non era prevedibile che è appunto quella della pandemia collegata al Covid. Chiaramente già nel 2019 c'erano stati segnali soprattutto a livello europeo di una modifica che si stava assistendo e fortemente modificando nelle modalità dei consumi di quelli che erano i turisti e soprattutto anche di quelli provenienti dall'estero. Chiaramente con l'anno 2020 questa realtà c'è ancora più modificata nel momento in cui già si stava ripensando il proprio piano ed alcune attività collegate anche al rapporto con il turo per etor nazionale e internazionale alla partecipazione delle chiere c'è stato uno stop a quella che era appunto l'attività tradizionale collegata alla partecipazione turistica eccetera. A questo punto nel 2020 l'attività di appunto i servizi si è direttamente a livello comunicativo su tutto quello che erano piattaforme digitale per cui la maggioranza di quelli che erano i nostri siti sono stati modificati, cambiate anche le piattaforme per permettere direttamente all'operatore di caricare direttamente sia gli eventi che le proposte, quindi abbiamo avuto un nuovo sito che è stato appunto varato all'inizio del 2019, Emilia Romagna Turismo e diciamo un sito di promozione ed un sito invece di commercializzazione Emilia Romagna Welcome che superava la tradizionale concetto di offerta quindi collegata al pernottamento per dilottarsi invece a quelli che era il tema dell'experience. Per questo motivo le previsioni per il 2021 ci danno una tenue ripresa per un turismo che però ovviamente è logico pensare sarà quasi esclusivamente nazionale quindi tutti quelli che saranno i vettori aerei se la situazione potrà essere ripresa avranno un lentissimo recupero quindi si parla una percentuale molto bassa ma si avrà un recupero sostanziale invece per quello che sarà l'Europa occidentale nel 2022. Un ritorno però sostanziale alla situazione tra i covid non potrà avvenire prima del 2025 quindi questi saranno degli anni strategici per quello che riguarda tutta la programmazione e la promozione di APT a tutti gli enti e gli operatori che effettivamente collaborano con noi a partire dalle destinazioni quindi dovremo essere molto allineati e tenere conto che la European Travel Commission ha registrato una quota di circa il 50% degli intervistati che dichiarano comunque la loro volontà di volere viaggiare quindi il desiderio di viaggiare rimane fondamentale ed è per questo motivo che gli operatori vanno continuamente sollecitati e continuamente stimolati anche tramite questi webinar per non farsi trovare poi impreparati al momento della ripartenza soprattutto per quello che è l'Italia che trova nel filo turistico quindi uno dei suoi maggiori investimenti riflessi quindi anche l'Emilia Romagna che ha visto anche nonostante tutti negli ultimi due anni una buona ricrescita si dovranno però andare a analizzare anche insieme appunto alle destinazioni turistiche quelle che potranno essere problemi di sicurezza soprattutto per quello che riguardano i vaccini del Mediterraneo non solo, ormai il desiderio di viaggiare delle persone è tale che nemmeno la paura quindi è riuscita a fermare questo desiderio e questo bisogno appunto di viaggiare a questo punto si dovranno appunto andare a analizzare i nuovi mercati, le nuove facce di consumatori turistici che si dovranno andare a individuare e quindi targettizzare la crescita dei movimenti di Pucami nel medio periodo della nostra regione è passata sicuramente ad avere un tipo di competitiva all'offerta dei territori che già avevano una vocazione turistica grazie alle politiche regionali e anche ai sistemi turiennali che la regione ha varato ed obiettivi che hanno puntato comunque alla crescita del PIL e allo share del comparto turistico quindi a questo punto sarà molto importante considerare anche tutte le innovazioni e la riquillificazione di prodotti che verranno fatti con le destinazioni, con i propri associati che vedranno nella specializzazione quindi uno degli elementi fondamentali affinché appunto le imprese turistiche possono riemergere in un secondo momento utilizzando nuovi strumenti, nuovi linguaggi e ovviamente avvalendosi come stato in questo caso di tutte quelle che sono le forme di comunicazione digitale. Ricordiamo comunque che i primi dati ci tengono a sottolineare che i temi quali quelli degli ambienti, della sostenibilità saranno fondamentali anche nel 2020 e quindi sarà necessaria una nuova attenzione, una nuova attenzione di riposizionamento competitivo di linee di intervento che proseguono anche obiettivi pluridi e diversificati. Quindi in questa particolare situazione sarà molto importante che a tutti i servizi anche gli altri ordini lavorano in stretta collaborazione con gli operatori turistici regionali e le destinazioni soprattutto la destinazione turistica a Bologna che è quella che ha l'abba importante a livello regionale per appunto i vettori aerei. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Grazie a Roberta Moretti. La parola per la presentazione della destinazione turistica e il turismo enogastronomico al dottor Michelangelo Stanzani, destinazione turistica Bologna-Modena. Grazie mille. Grazie a tutti quanti. Io sono qui a rappresentare la destinazione turistica Bologna-Modena. Ho preparato una breve presentazione che adesso lancio in cui raccontiamo velocemente chi siamo e cosa stiamo facendo. La vedete? Bene. Sì, perfettamente. Bene. Allora, facendo seguito a quanto già anticipato da Roberta Moretti di APT, le destinazioni turistiche nascono a seguito dell'introduzione nella regione Emilia-Romagna della legge 4.2016, quindi diventano operative a partire dal 2017, a seguito di quella che giustamente è stata richiamata come una rivoluzione dell'impostazione e della promozione della promocomercializzazione turistica regionale, in cui si è passati da una logica prettamente di prodotto a una logica di territorio basata sulle destinazioni turistiche. Ovviamente, prodotto e territorio si fondono ancora insieme, ma attraverso un processo di governance e di interazione tra i diversi attori pubblici e privati del turismo emiliano-romagnolo che cerco velocemente di descrivere. Come si diceva, sono nate quindi le destinazioni turistiche Emilia-Romagna. Per quanto riguarda invece Bologna, è stato riconosciuto alla città metropolitana, in qualità proprio della sua specifica natura istituzionale, un ruolo tale per cui potesse essa stessa esercitare le funzioni di destinazione turistica senza bisogno di creare un nuovo ente. Questa è la strada che è stata percorsa ed è nata quindi la destinazione turistica Bologna-Metropolitana. Nasce quindi nel 2017 con questi due obiettivi principali, che sono quelli, da un lato, dello sviluppo di un turismo sostenibile come vettore per lo sviluppo economico e sociale del territorio, proprio perché è in virtù della funzione di sviluppo economico e sociale che ha la città metropolitana, che è stato riconosciuto questo ruolo di destinazione, e nel fare questo appunto lavorare in ottica metropolitana, quindi superare promozioni prettamente cittadine che avevano interessato fino a quel momento lo sviluppo del turismo a Bologna, quindi relativa al comune di Bologna, e allargare questa logica all'intero ambito metropolitano, in una logica appunto di redistribuzione dei flussi dalla città al territorio, che diventerà poi particolarmente importante nella congiuntura attuale. Come funziona la destinazione turistica a Bologna metropolitana? C'è un suo presidente che è delegato a questa funzione all'assessore del comune di Bologna al turismo, Matteo Leppure, e ci sono degli organi che sono un comitato di indirizzo che è appunto di natura pubblica, in cui siedono i rappresentanti delle unioni di comuni, e fa un po' da CVA del cliente, e la cabina di regia che invece è il tavolo in cui convergono le rappresentanze degli operatori privati del sistema turistico locale, e insieme delineano le politiche della destinazione turistica. Una volta delineate queste politiche, poi il braccio operativo che le mette in atto e le sviluppa è la DMO, che è appunto questo organismo che gestisce l'organizzazione, la promozione turistica, la promozione turistica della destinazione, e che è stato individuato Bologna Welcome. Bologna Welcome, quindi, è il braccio operativo della destinazione ed è il soggetto attraverso cui la destinazione realizza le proprie politiche promozionali. Vi segnalo a questo proposito il sito appunto di Bologna Welcome, BolognaWelcome.com.it, come volete, che è il sito turistico di destinazione, dove potete trovare quindi le proposte promozionali, promocommerciali, che vengono offerte al pubblico. A livello di coinvolgimento, quindi, degli operatori privati, che per noi è strategico nella definizione e nell'attuazione delle politiche, non c'è solo la cabina di regia come momento decisionale, ma a livello proprio di monitoraggio stesso delle politiche, di loro verifica sul terreno costante, nel corso del tempo, ci sono i tavoli territoriali. I tavoli territoriali che sono stati attivati nel territorio metropolitano sono tre, uno per l'Appennino, uno per la Pianura e uno per l'Immolese. Ad essi poi si affianca uno sviluppo che ha avuto la destinazione turistica Bologna metropolitana, diventando appunto destinazione Bologna-Modena, processo che è ancora in corso e che si svilupperà in particolare nei prossimi tre anni, perché adesso si è concluso il primo triennio e dal 2021, cioè il secondo triennio di attività della destinazione, in cui vengono a maturazione vari processi, tra cui appunto quello di integrazione sempre più stretta con Modena. Al momento esiste una convenzione, su cui vado direttamente, la convenzione con Modena che è legata a quattro prodotti, che sono i motori, il food, e il turismo della neve e i grandi eventi. Vedete subito che Food & Wine appunto sono uno dei prodotti trainanti, non solo per la destinazione, ma anche nel suo rapporto di integrazione tra la componente polonese e quella modenese, che per l'importanza ovviamente dei prodotti amarchi europei che vengono prodotti nel territorio, e anche per la capacità attrattiva in termini proprio di esperienze turistiche che le aziende produttrici riservano e anche ovviamente dal punto di vista della ristorazione. Quindi su queste basi molto concrete si sta sviluppando questa maggiore integrazione che andrà oltre questi quattro prodotti e arriverà adesso a una commercializzazione congiunta più organica. Torniamo quindi alla nostra governance, si aggiunge, come vedete, ai tavoli territoriali anche la convenzione quindi con la provincia di Modena, la quale ha attivato una consulta provinciale per il turismo che fa appunto, che è il momento di dialogo con le associazioni di categoria rappresentative del turismo dell'area modenese. Procedendo molto rapidamente, ovviamente le fonti di finanziamento principali della destinazione turistica per lo sviluppo delle sue attività sono trasferimenti della regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio e la tassa di soggiorno del Comune di Bologna che ha deciso di appunto confluire nel bilan, nel budget della destinazione dando un grosso impulso alla promozione turistica di tutto il territorio. Ecco, gli strumenti che noi abbiamo. Il primo strumento sono le linee plurienali di indirizzo, sono linee strategiche, programmatiche che coprono un arco di tre anni ed hanno appunto la quarnice entro cui si sviluppano le politiche turistiche di destinazione. Come vi dicevo, si è appena concluso il primo triennio ed abbiamo recentemente approvato le linee plurienali di indirizzo 2021-2023 per il successivo triennio. Non è stata una scelta scontata perché è stato un anno molto difficile in cui altri hanno valutato che potrebbe essere conveniente aspettare prima di darsi una prospettiva. Noi invece abbiamo fatto il ragionamento contrario. Abbiamo detto che proprio trovandoci in una situazione di difficoltà era necessario riposizionarci velocemente e ripartire, ritarrando i nostri obiettivi subito con tutte quelle azioni che era possibile cominciare a fare e ad immaginare per il prossimo periodo. Quindi c'è stato senz'altro un riorientamento verso il mercato interno senz'altro una sempre maggiore attenzione verso la sostenibilità, l'ambiente che sono delle domande che emergono con forza dai turisti quando possono muoversi in questo periodo e all'interno di quest'ambito sono state trovate delle linee di prodotto da sviluppare identitarie per la nostra destinazione. Una di queste è appunto il Pood and Wine. E in particolare si è capito che meritava nel prossimo periodo uno sviluppo, una maggiore capacità di incisività sul mercato turistico dell'enoturismo verso cui abbiamo resistato degli interessi e stiamo sviluppando dei progetti di consolidamento del prodotto e successivamente di sua promocommercializzazione. Sempre, come vi dicevo, in quell'ottica di decongestione, destagionalizzazione, differenziazione del prodotto, in cui Pood and Wine rivestono un'importanza del tutto particolare che trova anche un nuovo protagonismo appunto rispetto alle sensibilità che la crisi che stiamo vivendo ha messo al centro delle aspettative dei turisti e delle loro richieste appunto in termini di esperienzialità, aria aperta, contatto con la natura e autenticità nell'esperienza turistica al di fuori dei prodotti di massa. Questo è quindi a livello di cornice. A livello operativo poi abbiamo dei piani annuali, tra cui il programma di promocommercializzazione commercializzazione 2021 nel quale abbiamo individuato prodotti già avviati e prodotti da sviluppare. Tra i prodotti già avviati c'è appunto il turismo enogastronomico che come vedete ha un asterisco perché non è solo un prodotto trasversale alla destinazione ma è un prodotto trasversale per la sua importanza a tutta la regione Emilia Romagna per il quale appunto secondo la legge collaboriamo con APT Servizi che lo coordina come tema. E quindi in particolare appunto abbiamo individuato delle eccellenze del territorio su cui ripartire con delle offerte turistiche in primis appunto le visite alle aziende di produzione l'enoturismo come vi dicevo e anche un fico nell'ambito di un piano di rilancio post-andemico che appunto è in corso di elaborazione da parte di FICO stessa. Questi sono i prodotti che abbiamo in convenzione con Modena che abbiamo visto prima e per finire questa rapida carrellata su che cos'è la destinazione turistica Polonia-Modena e che cosa sta come opera e che cosa sta facendo in particolare in tema di turismo gastronomico ho portato qualche esempio dei prodotti che abbiamo commercializzato attraverso Bologna Welcome nel 2020 nell'ambito del programma di interno commercializzazione 2020 abbiamo degli esempi ad esempio di enoturismo che abbiamo fatto Bologna Wine Tour tra i vini della zona diciamo verso Limolese zona est di Bologna un pacchetto di più giorni Bologna La Grazza con visite a Punta FICO ovviamente transi e cene nei ristoranti del territorio e visite guidate nelle aziende di produzione così pure un altro prodotto esperienziale altri due prodotti esperienziali fortemente identitari per la destinazione turistica Bologna e Modena ma tanto da coincidere forse proprio con due marchi di fabbrica del Made in Italy stesso che sono Emilia dei Sapori con il Parmigiano e il Regiano e il Food and Ferraritur che appunto riguarda anche il territorio modenese in quell'integrazione che vi dicevo ovviamente quest'anno per le sue caratteristiche si è investito tanto anche in formazione e in particolare abbiamo da poco realizzato con Bologna Welcome un incontro di formazione a giornata formativa dedicata in specifico all'elupurismo che è uno dei prodotti che stiamo sviluppando e che in particolare svilupperemo il prossimo anno io vi ringrazio per l'attenzione questi sono i nostri contatti perché questo è un momento importante per noi anche di conoscenza e di scambio e quindi vi lascio volentieri le slide agli organizzatori perché possano condividerle con chiunque di voi voglia poi mettersi in contatto con noi grazie grazie amica amica l'angelo stanzani e ci ha dato proprio destro con l'ultima cosa che ha detto di anticiparvi che le slide di tutte le presentazioni che verranno utilizzate quest'oggi come sempre vi verranno inviate dalle vostre camere di commercio di riferimento dopo la fine del webinar quindi nei prossimi giorni riceverete tutti i materiali molto velocemente vado a presentarvi la giornata odierna quelle che sono le sue caratteristiche i relatori prima di passar loro la parola come è già successo in queste settimane anche in questo caso ovviamente ci troviamo a partecipare a un webinar quindi a un evento a distanza un evento a distanza che rispetto all'evento in presenza comporta anche il dato non secondario del fatto di non potersi vedere e dialogare in maniera più diretta e più immediata il nostro tramite per la comunicazione sarà soprattutto la chat infatti avete notato che i vostri microfoni parlo ai partecipanti sono silenziati non per una volontà anti-democratica ma per evitare che ci siano poi dei ritorni se sono accesi molto sgradevoli in cuffia e da parte che vanno poi a danneggiare coloro che stanno tenendo la relazione però vi invito da subito a utilizzare la chat che trovate in basso nella barra degli strumenti di zoom per presentarvi e per presentare anche per dirci il nome dell'azienda che rappresenta azienda organizzazione che rappresentate quest'oggi in questo contesto quindi la interazione col pubblico avverrà principalmente tramite la chat ed è tramite la chat che vi suggeriamo consigliamo di iniziare fin dalla prima relazione a inviare le domande che volete porre ai relatori i relatori di oggi saranno tre sarà nostra cura insieme a mia e di ISNART di raccogliere e radunare le domande fra virgolette in modo tale da poterle poi restituire ai relatori al momento del question time infatti noi andremo adesso ad ascoltare tre interventi di circa 25 minuti l'uno anzi di 25 minuti massimo l'uno in maniera tale che al termine dei tre interventi ci sia l'adeguato tempo e spazio per rispondere alle vostre domande ai vostri inquisiti richiesti di approfondimento e quello sarà proprio il momento diciamo in cui eventuali dubbi o situazioni poco chiare o invece motivi di interesse su cui avere ulteriore materiale potranno essere espressi in maniera ancora più immediata dicevamo ai nostri esperti la giornata di oggi una giornata è stata anticipata da Matteo Beghelli dedicata al mondo della ristorazione quindi in tutte le tre destinazioni turistiche si è seguito lo stesso schema tre giornate con tre tematismi il ricettivo la ristorazione e il settore food and wine in particolare la giornata di oggi ha un macro tema che è nuovi saperi per interpretare l'offerta ristorativa accessibilità tecnologie e web per restare sul mercato all'interno di questo macro tema le tematiche di dettaglio che verranno affrontate sono le strategie di web marketing per fidelizzare i clienti i nuovi layout del delivery e l'asporto e l'accessibilità come garanzia di un turismo per tutti ne parleremo anzi ce ne parleranno la dottoressa valentina mannino responsabile comunicazione in laurenzi consulting azienda di consulenza e marketing su progetti food and beverage in ambito ristorativo hospitality e retail ha maturato pluriennale esperienza come social media manager ufficio stampa e digital strategist il dottor Dario laurenzi CEO and general manager della laurenzi consulting attivo da più di 30 anni nel settore ristorativo dal 2004 si occupa di ideazione progettazione e realizzazione di format food and beverage nei settori ristorativo hospitality travel retail gdo leisure and entertainment in laurenzi consulting si occupa di garantire al cliente un servizio completo a 360 gradi dall'ideazione del concept allo sviluppo del format fino alla start-up il dottor Roberto Vitali esperto internazionale nel turismo accessibile CEO di village for all membro e portavoce del comitato per la promozione del turismo accessibile presso il ministero del turismo nel settore del turismo accessibile vanta una grande esperienza in ambito pubblicitario di marketing e normativo prima di passare la parola ai nostri relatori chiedo alla regia di mandare per cortesia il sondaggio questa è una velocissima domanda che come sempre poniamo a tutti voi circa le vostre aspettative quindi cosa ti aspetti da questo seminario la possibilità di risposte multipla quindi potete scegliere più di una risposta indicazioni utili per affrontare questo momento critico strumenti innovativi per stare meglio sul mercato indicazioni per valorizzare la mia impresa all'interno della destinazione Bologna Modena nuovi modelli per comunicare meglio con la mia clientela quindi un attimo del vostro tempo per noi un grandissimo aiuto per poter tarare anche al meglio il nostro lavoro nei prossimi appuntamenti ecco gli esiti 71% per strumenti innovativi per stare meglio sul mercato seguito da nuovi modelli per comunicare meglio con la mia clientela quindi la richiesta è proprio quella di strumenti e modelli innovativi quindi di pratiche di buone prassi per affrontare il mercato e a questo punto a me non resta la parola non resta altro che passare la parola a Valentina Mannino per la prima delle nostre presentazioni a te la parola Valentina grazie buonasera a tutti buonasera è un piacere condividere con voi questo momento di confronto condivido lo schermo così faccio partire la presentazione iniziamo la nostra chiacchierata come diceva la dottoressa in Laurenzi Consulting noi ci occupiamo di strategie 360 gradi per i nostri clienti e sono sempre strategie sartoriali su misura quindi in questo caso non conoscendo le specifiche individualità i vostri core business nello specifico dettagli è un po' difficile dirvi nello specifico cosa fare per quello voglio condividere con voi delle riflessioni che secondo me sono attuabili a tutto tondo per quello che è il macro tema della comunicazione del web marketing oggi quelli che sono gli strumenti che oggi possono realmente e concretamente darvi una mano a prescindere da quello che sia poi il vostro specifico marketplace il vostro prodotto sappiamo di di quale settore stiamo parlando però nel dettaglio sicuramente potremmo trovare insieme delle idee degli spunti che vi possano dare una mano ripensarvi e poi a rilanciare non appena la situazione sarà diversa sarà migliorata o come ci auguriamo tutti sono partita quindi per questa riflessione molto generale da quello che era il titolo il tema che mi era stato affidato tirando fuori quelle che potevano essere tre parole tre concettive da analizzare insieme nell'arco di questi venti minuti per capire un po' quale racconto possiamo fare su cosa possiamo confrontarci e quali strumenti possiamo cominciare a lavorare nell'immediato le tre parole che ho tirato fuori quindi sono soluzioni visibilità e fidelizzazione fidelizzare i clienti se parliamo di soluzioni è chiaro che alla base deve essere un problema di quale problema possiamo parlare oggi un momento in cui la situazione è difficile complicata e schizofrenica il mercato cambia rapidamente il pubblico cambia rapidamente quindi quali sono le soluzioni che possiamo trovare e quali problemi sicuramente il primo problema che possiamo porci è quello dell'identità cioè il nostro marchio il nostro brand il nostro prodotto ha un'identità specifica è raccontato in maniera coerente in tutti quanti i supporti in tutti quanti i canali in tutte quante le declinazioni del brand il tono di voce che il mio marchio ha adottato e ha scelto di adottare all'inizio è portato avanti con coerenza e mantenuto il medesimo tutte le volte su tutti i canali in cui io instauro un dialogo con il mio utente questo è fondamentale l'identità che è il tono di voce che è la personalità sono i valori sono la mia color palette il logo di riferimento i colori del logo le font quindi tutto è identità tutto quello che racconta il vostro brand racconta il vostro marchio racconta il vostro prodotto e identifica i valori che voi volete portare avanti con il vostro servizio fa parte della vostra identità in un momento come questo in cui siamo sommersi di qualunque tipo di comunicazione comunicazione commerciale è fondamentale avere un'identità stabile ferma decisa raccontata nel dettaglio e coerente quello che fa la differenza quello che permette all'utente di riconoscervi è continuare a scegliervi nel tempo e consigliarvi l'identità quindi declinata non solo quando parliamo di un logo ma anche quando parliamo della comunicazione interna quando parliamo del volantino quando parliamo del post sui social quindi fondamentale mi sentite? sì ok ho avuto un attimo di connessione problematica grazie è fondamentale avere chiaro mente chi si è come ci si vuole raccontare come ci si vuole raccontare chiaramente in un posto chiamato mercato è chiaro che quello che voi fate è finalizzato alla vendita del vostro prodotto del vostro servizio quindi a inserire il vostro prodotto il vostro servizio in una rete in un mercato in cui dovete avere a che fare ovviamente con i competitor con una concorrenza quindi anche questa è un'altra domanda da porsi sono ben posizionato il mio mercato è quello corretto per il mio prodotto e il mio prodotto parla le giuste perché ricordatevi sempre che non si parla a tutti ogni prodotto ogni servizio è creato ad hoc pensato e realizzato per un target e per target non intendiamo una platea anonima di persone intendiamo persone in carne ed ossa come noi quindi persone con degli stili di vita con una cultura con un'istruzione con delle relazioni con dei gusti con delle abitudini di consumo è fondamentale quindi avere in mente chi si è qual è il proprio prodotto e a chi lo si vuole vendere e in questo caso poi nell'ambito della comunicazione del proprio marketing in che modo vogliamo andare a raccontarglielo creando quindi una relazione la comunicazione non è una vendita diretta al vostro prodotto la comunicazione è un atto sociale crea una relazione quindi è fondamentale che voi avendo ben chiaro in mente i vostri pilastri identitari di prodotto e di mercato e di pubblico sappiate poi come sviluppare la relazione e il dialogo con questo stesso pubblico probabilmente all'inizio sarà un pubblico di sconosciuti e a maggior ragione oggi che il prodotto si vende online e il pubblico potenziale si è steso in una maniera incredibile quindi gli sconosciuti che ancora non vi conoscono e vi potrebbero conoscere sono tantissimi questo dialogo andrà poi nel tempo scaldato e adottando una serie di strategie di comunicazione marketing riuscirete ad entrare in contatto sempre più frequentemente con queste persone permettere loro di conoscervi di fare a loro un racconto di quella che è la vostra identità il vostro prodotto e portarli a essere i vostri clienti in questo è fondamentale oggi non considerare come secondari tutti quegli strumenti del marketing che vengono adoperati a volte in maniera anche un po' amatoriale il post su facebook non è un semplice post certo può esserlo può anche essere fatto in maniera amatoriale o come obbio come però sappiamo che è diventato uno strumento di marketing significa che va pensato va strutturato va creato secondo una strategia un tono di voce secondo delle metriche non sono solamente mi piace che danno il senso del successo del vostro contenuto ma sono ben altre metriche che si possono tradurre anche in metri concrete di marketing questo per dire che dietro tutti questi strumenti che le nuove opportunità digitali vi mettono a disposizione deve esserci comunque un pensiero strutturato una strategia e l'idea del raggiungimento di obiettivi specifici nel corso di un tempo stabilito in modo tale che voi possiate studiare nel tempo lo sviluppo di questo percorso e capire quali possono essere i risultati ottenuti il secondo tema è la visibilità quindi una volta che abbiamo ben chiaro chi siamo a chi parliamo qual è il prodotto qual è il mercato e come vogliamo creare la relazione con il nostro pubblico adesso la partita è arrivare a quel pubblico rendersi visibili quando parliamo di visibilità non intendiamo solamente la visibilità offline che può essere giustamente la cartellonistica il volantino il pannello pubblicitario l'insegna e le vetrofanie sulla porta ma anche una pubblicità online non è più l'epoca di un out-out in questo momento storico è fondamentale che la strategia che crea visibilità per il vostro business sia una strategia cross-mediale quindi non solo offline ma anche online in maniera ovviamente coerente come dicevamo prima tutti gli strumenti come devono suonare un'unica sinfonia gli strumenti devono servire per raccontare il vostro prodotto la vostra identità e rafforzarla il post su facebook o su instagram non diversamente da come parla il vostro menu o il vostro volantino o la vostra vetrofania il tono di voce la personalità deve rimanere la medesima questo creerà una notorietà maggiore del vostro brand vi renderà riconoscibili la gente imparerà riconoscervi quando parliamo di tono di voce è proprio questo è una personalità un carattere come ognuno di noi ne ha uno allo stesso modo anche i brand devono essere trattati come dei soggetti viventi quindi è fondamentale che tutti i canali adoperati siano coerenti nell'utilizzo e nelle modalità questo perché perché se parliamo di visibilità e di raggiungimento di un pubblico maggiore e parliamo di ristorazione quindi dell'esperienza del cibo non possiamo non fare conti con il fatto che oggi l'esperienza del cibo sia molto diversa da prima perché con il fatto che la grande maggioranza delle persone naviga online a uno smartphone si collega a internet e segue i canali social questo crea una una visione diversa dell'esperienza del ristorante la visione nasce prima ben prima di aver consumato il interno del locale nasce all'interno delle relazioni perché l'utente e il cliente è condizionato da quello che sa perché gli è stato consigliato unico o perché ha letto qualcosa in giro e quindi anche quello che legge lo influenza per leggere non intendiamo solamente le recensioni fondamentali e tra un attimo ne parleremo che raccontano di come come si mangia come si sta il personale la pulizia l'igiene a proposito monitoria le recensioni soprattutto in questo periodo che parlano e sottopongono all'attenzione della proprietà anche a volte delle problematiche che sfuggono igiene distanziamento e sicurezza ma anche articoli l'ufficio stampa pensate a quei ristoranti quelle attività che fanno operazioni di ufficio stampa e che hanno una bella cartella stampa tanti articoli che sono stati scritti da giornalisti da blogger quindi online c'è uno storico se io cerco il nome di un ristorante magari mi uscirà soltanto il sito internet o il social ma anche l'articolo sulla rivista di settore quindi fondamentale anche quello condiziona l'esperienza di un possibile cliente prima di venire al ristorante e il terzo il terzo elemento è quello che vede quindi quello che sa perché lo senti dire o glielo consigliano quello che legge perché lo trovo online è quello che vede perché oltre la parte testuale c'è tutta una parte di racconto visiva è fondamentale anche qui nell'arco di quello che diciamo prima è il racconto di un tono di voce adattare il visual quindi la parte grafica e la parte fotografica a questa stessa identità perché anche le foto del vostro prodotto il modo in cui le scattate il modo in cui le postate le storie su Instagram oppure le foto che scegliete di inserire sul sito che è sempre la piattaforma vitrine istituzionale che rimane il contenitore della vostra identità dove volete che poi il vostro utente converta l'azione quindi fondamentale fondamentale tenere in considerazione che la food experience nasce prima nella mente del cliente e solo in un secondo momento diventa esperienza diretta del prodotto ecco ferma 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 giusto qua giusto qua noi eravamo d'accordo in realtà con Valentina produco la domanda esatto grande 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 grazie dove come puoi renderti visibile questa è la domanda delle cento pistole si dice quali sono e qua chiediamo il vostro coinvolgimento e vi chiediamo di rispondere velocissimamente in chat attraverso una parola o due in maniera molto rapida quali sono gli strumenti che utilizzate attualmente per rendervi visibile online non online comunque quali sono i vostri principali strumenti di visibilità vediamo di leggere velocemente chiediamo ai colleghi a coloro agli imprenditori della ristorazione di risponderci molto velocemente in chat con una parola due il social più utilizzato o quant'altro vediamo non arrivano risposte eccolo qua il dialogo col cliente il locale fisico facebook instagram sono le due risposte che sono arrivate finora aspetto ancora un attimo a vedere se arriva qualcos'altro comunque abbiamo la dimensione sia fisica che virtuale come accennavi poc'anzi magari mentre arrivano altre risposte vuoi proseguire proprio su questo tema grazie mille Valentina mi aggancio proprio a questo commento sicuramente la parte fisica è fondamentale perché l'esperienza che nasce prima online sul web come dicevamo poc'anzi deve avere una continuità deve proseguire anche quando io arrivo all'interno del locale va benissimo che io dica che il mio locale ha un brand rosa fantastico le grafiche rosa le foto scattate su rosa poi quando arrivo a tutt'altri colori creo un gap cognitivo quindi l'offline deve assolutamente essere come diciamo prima coerente con l'online quindi sicuramente punti da tenere sotto controllo per l'identità sono segne i menu gli applicativi i flyer i pieghevoli i cavalieri le tovagliette del menu tutto quello che all'interno del locale può comunicare l'identità va sfruttato senza creare però un sovraccarico comunicativo altrimenti rischiamo che l'utente che poi è il cliente che arriva da noi fonda oppure riceva talmente tanti input da sentirsi quasi in soggezione invece noi vogliamo che nel nostro locale sia a suo agio sia tranquillo però adoperare le leve corrette e usare in maniera misurata ma puntuale anche la comunicazione offline all'interno del locale online chiaramente dicevamo il sito internet il sito internet rimane ovviamente oggi non avesse diversa da anni fa è fondamentale che abbia uno scrolling simile a quello dei social perché l'utente è diventato un utente più social che è internauta è fondamentale che sia quindi user friendly che aiutino la navigazione corretta e fluida che in pochi click dia all'utente tutto quello che sta cercando però ricordiamoci che rimane uno strumento istituzionale quindi tutte le informazioni principali devono essere ricontenute e anche le informazioni ulteriori gli approfondimenti pensate ai blog scritti in ottica SEO quindi a una parte tematica del sito in cui potete inserire degli articoli che riguardino il vostro business anche con argomenti laterali non necessariamente monotoni ripetitivi sullo stesso tema ma con delle variazioni sul tema che utilizzino delle parole chiave che permettono a Google di indicizzare poi il sito all'interno dei motori di cerca sempre parlando di Google la scheda Google My Business per le attività locali è uno strumento di marketing local importantissimo è il primo risultato in una scheda visivamente e fisicamente quadrata quindi chiara leggibile dritta contiene tutte le informazioni su di voi vanno aggiornate vanno aggiornati gli orari le chiusure il sito il numero di telefono corretto tutte quelle che sono i servizi il delivery l'asporto se c'è un posteggio tutto quello che può dare informazioni in più e può permettergli di scegliere voi rispetto ad altri quindi è una una scheda tra l'altro free quindi ottimizzabile per le stesse assolutamente utile da aggiustare aggiornare ricordandovi anche che l'utente ha la possibilità di lasciarvi delle recensioni e caricare delle parlino del vostro locale anche quella è un'operazione che va monitorata come TripAdvisor su queste piattaforme si parla del vostro locale anche se voi non siete iscritti o non lo sapete si parla di voi quindi a quel punto è importantissimo esserci monitorare quello che viene detto capire come agire con questo pubblico perché poi ci interessa relativamente leggere soltanto quello che dicono di noi è fondamentale poi creare una relazione con quelle persone che hanno speso due minuti del loro tempo per lasciarci una recensione quindi creare anche lì un dialogo Facebook e Instagram chiaramente utilizzati in maniera diversa con strategie diverse perché sono canali diversi quindi lo stesso contenuto su entrambi può andar bene qualche volta ma posso dare un consiglio non sempre sono pubblici diversi utilizziamo social diversi utilizziamo i social sempre parlando di noi della nostra identità però con quelle accortezze e quelle furbizie che rendono il contenuto di Facebook tipico di Facebook e buono per essere apprezzato dall'algoritmo e il contenuto di Instagram per essere come si suol dire instagrammabile quindi anche lì una presenza costante non asfissiante ma costante per essere appunto premiati dall'algoritmo risultare come una pagina attiva e propositiva con dei contenuti sempre di valore e di interesse di riferimento per SEM e per social media advertising intendiamo invece tutte quelle campagne che possiamo attivare a pagamento sia sui social anche TripAdvisor Premium permette di fare delle campagne ma anche su Google quindi per sponsorizzare degli annunci che portino l'utente sul nostro sito attraverso delle parole chiave specifiche un consiglio che in realtà è più un input mentre l'utente su Google sta già cercando scrive sulla barra di ricerca di Google quello che si chiama intento di ricerca cioè sta già cercando qualcosa perché vuole arrivare a una soluzione finale quindi vuole prenotare vuole cercare delle informazioni e quant'altro quindi un utente è già in parte convertito l'utente dei social no l'utente dei social sta sui social e passa tempo legge quello che fanno gli amici segue le sue pagine quindi nel momento in cui la campagna che noi sponsorizziamo dalla nostra pagina lo investe lo coglie un po' impreparato perché lui non ci sta cercando siamo noi che lo intercettiamo e lo troviamo quindi le campagne su Google dovranno essere scientificamente impostate sulle keyword scritte bene e atterrare su un sito ottimizzato le campagne sui social dovranno essere campagne più emozionali e nel caso del nostro prodotto chiaramente più di pancia più divertenti il terzo punto e ultimo era quello della fidelizzazione quindi da che il mio utente mi vede a che il mio cliente diventa un mio il mio utente diventa un cliente fidelizzato c'è ovviamente un percorso che in questo imbuto è ovviamente molto sintetizzato ma che si costruisce nel tempo e si costruisce con canali strumenti e contenuti diversi con un investimento in web marketing e soprattutto con un'attenzione nella relazione con il cliente importantissima in ognuna di queste fasi quindi dal come diciamo prima lo sconosciuto che non sa chi sono e scopre cosa faccio quello che sono dove mi voglio posizionare col mio prodotto cosa gli voglio vendere fino al lo convinco che sono un soggetto interessante che il mio prodotto è valido prenda in considerazione l'idea di diventare un mio cliente diventa un mio cliente si trova bene con me ritorna da me e addirittura non plus ultra mi consiglia quindi come diciamo prima il passaparola consiglia ad altri in target potenziale che il mio prodotto è un prodotto buono è un prodotto valido quindi è fondamentale creare una relazione stabile con questo nostro utente che diventa poi cliente Valentina sei a 20 minuti grazie mille Luisa stringo ingrei anche per una relazione stabile questa relazione con il nostro utente deve tempo deve proseguire ovviamente sempre con degli strumenti ottimizzati in maniera nuova moderna contemporanea con un occhio sempre aggiornato che evolve questa nostra relazione col nostro pubblico in primo luogo condividendo dei valori il nostro pubblico usufruisce del nostro servizio del nostro prodotto e torna e ritorna da noi perché condivide i nostri valori i valori che noi non solo raccontiamo all'interno della nostra comunicazione ma che poi applichiamo nel momento in cui decidiamo di creare eventi di avviare delle attività specifiche quindi anche qui massima coerenza tra quello che raccontiamo e quello che poi applichiamo effettivamente non vendiamo dei prodotti siamo pieni di pubblicità da decenni questa è l'epoca delle emozioni dei valori del sentirsi parte di una comunità quindi cerchiamo di inserire nel racconto del nostro brand il nostro prodotto all'interno di una rete che sia una rete non solo di valori ma anche di emozioni che faccia sentire il nostro pubblico parte di qualcosa quattro input velocissimi territorio cultura futuro e collettività di questi tempi sono degli argomenti in cui la gente si rispecchia moltissimo soprattutto quando parliamo di brand locali che parlano di territorio quindi fondamentale utilizzare anche qui delle leve della persuasione che siano sia emozionali realistiche non vogliamo prendere il nostro utente e il nostro cliente però sicuramente legate a quello che è la nostra presenza nel territorio e la nostra presenza connessioni anche qui creare connessioni con il nostro pubblico e il nostro territorio non dimenticando sia le opportunità digitali che possono essere dal CRM quindi il software che gestisce tutti quanti i contatti che arrivano dai nostri utenti e li divide per categorie e per informazioni che ci possono tornare utili in un secondo momento pensate come va la mail ciao Mario domani è il tuo compleanno qui c'è uno sconto per te del 20% nel nostro locale parliamo di questo è un esempio per dire come si può arrivare a gestire a livello digitale la relazione con il cliente le newsletter le newsletter commerciali le campagne di remarketing l'utilizzo anche di app o di per esempio Whatsapp per accorciare le distanze e avere un dialogo ancora più diretto col proprio cliente se lo utilizzate avete Whatsapp Business potete anche impostare nelle vostre pagine social il bottone che rimandi direttamente a Whatsapp in modo tale da bypassare altri passaggi e parlare direttamente con il vostro utente e cliente caro vecchio punto interrogativo offline perché non è mai vecchio funziona sempre ricevere in casa un omaggio un tester avere regalato un campione anche l'invio di sms pensate non tutto il pubblico è un pubblico digitalizzato quindi l'sms marketing su contatti profilati e buoni di vostri clienti può ancora funzionare tutto questo per dire che sono tantissimi argomenti e davvero pochi minuti spero di avervi dato una brevissima panoramica di un po' di input per fare in modo che queste tre parole chiare inizialmente in nero possano essere sempre un po' più chiare un po' più obiettivi raggiungibili non è irraggiungibile bisogna solo lavorarci con una strategia e con ovviamente una mentalità imprenditoriale mentalità imprenditoriale perché oggi ci tocca ripensare le nostre attività in un futuro che non era quello che ci aspettavamo in maniera quindi molto lucida è fondamentale proiettarsi verso questo 2021 che è praticamente alle porte con un po' una filosofia diversa nuova adattata alla situazione e rendendosi conto che sta cambiando il paradigma sotto tantissimi punti di vista quindi vi lascio con le ultime suggestioni che condivido con voi intanto ripensare e rendersi conto che la socialità dell'esperienza food è cambiata e che tante cose non andranno più bene e tante altre vanno ripensate nel minor tempo possibile per adattarsi e non perché sia un cambiamento di oggi ma per migliorarsi e rimanere migliori poi nel tempo ed evolversi il pubblico è cambiato è un pubblico più consapevole più richiedente non possiamo fingere che sia così le persone cercano la qualità cercano il territorio cercano il chilometro zero cercano la sostenibilità sono tutte tematiche che non possiamo più ignorare che sono quelle del futuro prossimo la necessità di riformulare paradigmi digitali adeguati non utilizziamo la comunicazione perché oggi ci serve lanciare il delivery di Natale serve sempre lanciare il delivery di Natale oggi avrà una risonanza bassissima se voi già non alimentate i canali in maniera coerente e continuativa e costante quindi deve essere un ripensamento da parte della vostra impresa a tutto tondo in maniera costante tutto l'anno e ovviamente alla fine tirare le somme su quello che sono un po' i punti di quello che voi volete vendere la qualità del vostro prodotto il legame con la territorialità il tema della sostenibilità quanto lo è quanto non lo sarà se lo prevedete se prevedete i cambiamenti sono tutti i nuovi valori che dovete anche condividere poi con il vostro pubblico la qualità del servizio che fa parte della vostra offerta non basta un ottimo prodotto se poi il servizio che gli sta attorno non è adeguato il controllo di gestione del marketing strategico perché non dimentichiamo che è fatta la presa quindi i conti devono sempre tornare e l'ottica di investimento deve essere sempre un'ottica strategica in grado di misurare l'investimento e poi il ritorno dell'investimento è una cultura dell'impresa perché è fondamentale oggi come oggi più che mai far capire al nostro pubblico per fidelizzarlo e renderci ancora più visibili e credibili che siamo imprenditori non ci improvvisiamo non vogliamo erogare un prodotto un servizio one shot una volta solo perché ci interessa far cassa vogliamo fare rete vogliamo creare connessioni e vogliamo assolutamente valorizzare il nostro territorio con tutti gli strumenti che ci sono dati come disponibili spero di essere rimasta nei 25 minuti credo di no però vi ringrazio e per qualsiasi domanda ci potete in chat e commenteremo poi dopo grazie grazie a te devo dire che hai sforato di pochissimo veramente di due minuti quindi assolutamente nei tempi va più che bene grazie mille io ti ringrazio l'intervento come sempre questa è la terza volta durante questa rassegna che lavoriamo insieme il tuo intervento è sempre ricchissimo di spunti vi invito a già formulare le domande che avete sicuramente per Valentina in chat in maniera tale che possiamo elaborarle e poi restituirle alla relatrice nel momento del question time sicuramente strategico strategica la strategia siamo un po' una ripetizione ma è così cioè a maggior ragione in un momento una stagione complessa e in continua evoluzione senza nessuna linea guida praticamente o quasi come questa di indirizzo dove va il pubblico cosa vuole cosa non vuole oltre a delle incertezze oggettive quello di comunque organizzare la propria comunicazione soprattutto online secondo delle linee guida e anche facendo i conti come dicevi alla fine su quello che poi è il ritorno sull'investimento quindi cosa posso investire laddove la risorsa è importante sicuramente il denaro ma prima di tutto il tempo che si ha a disposizione quindi anche capire quando è il caso se è possibile se delegare qualcosa e piuttosto fare delle scelte invece che cercare di essere diciamo un po' come una specie di Dea Cali che presidia tutte le piattaforme quando non siamo in condizione di farlo approfondiamo il tema proprio della ristorazione di come sta cambiando l'universo della ristorazione con Dario Laurenzi che vedo già pronto e al collegamento quindi gli passo immediatamente la parola a te Dario Dario devi accendere eccoci qua buona tera a tutti ok come sempre è un piacere è un piacere sapere che qualcuno è dall'altra parte di uno schermo che sta ascoltando è un piacere sapere che qualcosa che stai dicendo può essere di supporto e di aiuto specialmente in un momento come questo dove diciamo con un po' il caos quello che capita mette in dubbio molti modelli e mette in dubbio molte persone che sono entrate o che solitamente sono nella ristorazione riguardo i loro investimenti e riguardo a quello che loro in qualche maniera hanno pensato di fare quando hanno avviato le loro attività io però mi sento di essere portatore di buone speranze di buone notizie e di buone visioni soprattutto personalmente reputo che da questa brutta storia possono nascere molto occasioni penso che questo lo avete sentito dire un po' da tutti quanti però oggi andremo un pochettino ad approfondire meglio che cosa intendo io per buone occasioni e perché lo dico ci sono motivazioni che sono legate al mercato e a quello che il mercato ci sta in qualche maniera insegnando e facendo vedere metto in condivisione lo schermo eccoci qui bene ti vediamo vedete lo schermo sì sì ti vediamo perfetto e dicevo per cui questa è a mio avviso una grande occasione nel senso che da questa bruttissima storia che a me colpisce anche da un punto di vista personale molte famiglie per cui una storia molto brutta gli imprenditori devono essere invece forti per poter superare questo momento ma soprattutto per saper guardare un po' al futuro e al domani perché dietro a tutto ciò si nascondono delle opportunità abbiamo sentito prima i dati riguardo al ritorno al turismo e il ritorno a un certo tipo di occupazione sono dati che sono molto interessanti perché nascondono in realtà poi una ripresa e questo è molto positivo ma soprattutto una ripresa che si spingerà verso numeri più positivi di quelli che vivevamo con un mercato che probabilmente sarà più alto perché comunque l'Italia continua ad avere a livello mondiale una continua percezione di qualità voi siete in un territorio che rappresenta il prodotto che è la parola penso più usata oggi nell'ambito food non si parla più o quasi sempre meno di piatti di piatti finiti si parla più di prodotto anche gli chef tutti questi chef che stanno molto televisivi o comunque molto digitali incentrano sempre di più i loro racconti i loro piatti su tutto quello che è la ricerca del loro prodotto per cui in qualche maniera reputo che stiamo per vivere un meraviglioso risorgimento mi piace ricordare e lo faccio spesso in queste occasioni che il mondo del vino italiano che oggi vive una sua visibilità molto alta oggi viene percepito ed è in realtà un prodotto di altissima qualità per nulla inferiore ai grandi francesi blasonati che nella storia da sempre sono stati considerati a livello internazionale i vini più buoni del mondo oggi gli italiani hanno conquistato palcoscenici mercati molto importanti e tutto questo nasce in uno dei momenti più drammatici per l'agroalimentare italiano cioè con lo scaldolo a metanolo uno dei momenti di maggiore caduta del nostro mercato bene in quel momento di grandissima caduta c'è stato il risorgimento del vino per cui in qualche maniera mi fa piacere pensare che questo accadrà anche per quanto riguarda tutto quanto il nostro comparto il comparto del food dell'ospedalità tutto quel mondo che gira intorno all'italianità a tavola però andiamoci a guardare un secondo che cos'è che noi tutto sommato abbiamo abbiamo come occasione andiamoci a guardare quello che resterà di questa esperienza fatta in questi mesi e che ahimè purtroppo ho l'impressione che ancora dovrà per diversi mesi non è una cosa che finirà così per cui lo smart working perché lo smart working è un qualche cosa che nelle aziende era già entro nella mia azienda la nostra azienda in piccola parte già lo facevamo lo smart working è esploso era in un percorso di crescita sempre di più a livello proprio di approccio culturale da parte delle aziende oggi lo smart working in maniera forzata è un numero molto elevato in futuro quando torneremo alla normalità lo smart working in maniera molto più temperata in maniera molto più utilizzata direi confruttare oggi al 50% diventerà una una costanza e questa costanza cambierà un po' gli equilibri le zone quelle degli uffici avranno meno massa avranno ugualmente lavoro ma avranno meno massa le zone quelle dei quartieri in cui si dice tra virgolette sono quartieri dormitorio beh quei quartieri diventeranno dei quartieri in cui in cui ci sarà una vita anche durante il giorno e tutto il mondo del delivery che oggi ha ha un'esplosione incredibile dovuta a una motivazione chiara non posso andare al ristorante e il ristorante veniva a me era già in crescita era già in sviluppo stavamo crescendo molto bene in Italia con frutto al mondo sempre di meno però comunque anche da noi crescevamo crescevano i numeri questi numeri sono stati chiaramente messi dentro un incubatore sono esplosi durante questa pandemia e questi numeri che si andranno chiaramente a normalizzare appena torneremo fuori dal normale però hanno avuto una sollecitazione che rimarrà nelle abitudini rimarrà e per cui anche le persone che come età come cultura mai avrebbero pensato di fare un delivery oggi l'hanno conosciuto e domani è un'abitudine che talvolta potranno fare per cui il delivery ha avuto la sua accelerazione come l'ha avuto lo smart work la sua accelerazione come lo smart working anche il delivery tornerà a numeri più normali ma avrà sempre avuto con fronte a prima uno sviluppo incredibile io reputo che c'è uno sviluppo che c'è del volo di altri 4-5 anni per arrivare a questo basti pensare che quando noi progettiamo un ristorante fino a un anno un anno e mezzo fa si diceva ah beh sì poi facciamo anche il delivery oggi quando noi costruiamo un ristorante il delivery viene trattato al pari passo di come viene trattato il ristorante che sta direttamente sul territorio per cui di nuovo una meravigliosa occasione di aumento del lavoro perché quella è un'altra berrina virtuale ma che poi diventa anche reale qualità e bellezza reputo che saranno come dire le parole d'ordine che noi troveremo nel nostro prossimo futuro il futuro è fatto di bellezza perché quello che abbiamo che stiamo vivendo oggi e che abbiamo alle spalle e che avremo ancora davanti per qualche mese ahimè purtroppo ci ha privato della bellezza e anche della qualità e poi è chiaro che c'è un link tra tutto quello che stiamo vivendo e la non qualità della vita per cui il link tra inquinamento ambiente pandemia esiste un collegamento e per cui tutto ciò che già era un'attenzione alimentare sarà sviluppato ancora in maniera più forte chiunque di noi oggi sa perfettamente che in base a come mangerà in base a come crescerà il suo figlio in qualche maniera le sta determinando anche il futuro della sua salute cos'altro resterà? beh resterà sicuramente una comunicazione pensare ed efficace e non come molti mi la percepivano beh si può facciamo anche comunicazione questa vetrina questo sito questi canali che ci sono o non ci sono oggi comunico proprio per tre mesi scompaio no abbiamo capito in questo momento in cui ci siamo isolati chiunque fa risolazione ha capito perfettamente che la situazione è una cosa su cui non se ne può fare a meno la comunicazione non può essere una cosa secondaria la comunicazione è una cosa primaria e per cui la progettazione della comunicazione da oggi verso il futuro sarà uno degli argomenti principali di quando uno progetta un tipo di business o per chi ha già un business in casa diventerà già lo è oggi ma diventerà ancora di più in futuro diventerà un canale importante per comunicare e per quello di conseguenza poi vendere cosa che andremo a perdere andremo a perdere qualche brutta abitudine andremo a perdere questo effetto massa dei buffet no immaginiamoci i buffet del pranzo della zona uffici immaginiamoci questi buffet per gli aperitivi immaginiamoci questi buffet per questi brunch o come vogliamo chiamarli e immaginiamo anche i buffet degli alberghi io trovo che bisogna trovare una giusta via di mezzo nelle cose il buffet della prima qualsiasi degli alberghi posso capirlo può esserci in una parte ma deve esserci anche una parte servita proprio perché il prodotto per essere esaltato e per avere qualità e bellezza avrà bisogno non solo di un buffet ma anche di un servizio io penso che un aperitivo non debba per forza essere questo tavolo enorme dove chiunque va lì mette mani prende di un prodotto mediocre penso che possa essere anche un aperitivo in cui uno paga un bicchiere per quello che vale e poi una carta di cose con dei prezzi molto semplici che si vorrebbero accompagnare il bicchiere io penso che il packaging deve essere più pensato non può essere che se ci siamo abituati di incartare una cosa anche con della stagnola per poi consegnare in un posto questa storia ci ha insegnato che ci vuole un packaging adeguato e ogni prodotto deve avere il suo packaging di riferimento ci ha insegnato anche che le aziende non possono vivere senza identità perché dal momento in cui poi accade qualcosa che cambia le linee del mercato e i flussi ecco lì che i posti più anonimi con meno identità faticano sul mercato perché hanno difficoltà a ricollocarsi e ad essere soprattutto riconoscibili che non mi sembra una cosa da poco essere riconosciuti ed essere ricordati per qualche cosa e per cui di conseguenza a quello che dicevo prima la comunicazione non sarà mai più occasionale ma sarà strategica pensata e mirata a quello che uno vuole comunicare e di conseguenza vendere ma andiamoci anche a vedere un secondo come dire le varie le varie solo un secondo perché ho un problema con il video ok ecco mi sentirei Luisa? certo certo ti sentiamo benissimo grazie ho avuto un attimo di crescere il video dicevo gli errori del passato che in qualche maniera hanno fortemente determinato poi il momento di difficoltà appena ci siamo trovati improvvisamente chiusi sicuramente la mancanza di un la mancanza di un controllo di gestione cioè molte aziende non sapevano esattamente bene veramente la propria azienda come funzionava anche molte aziende altamente funzionanti con dei grandi flussi di cash flow di soldi che girano e per cui una percezione che le cose vanno molto bene il controllo di gestione è una cosa molto più seria molto più basata su dei numeri che vengono guardati anche in proiezione e in profondità poi menu engineering che è una parola che chiunque ha fatto nella vita almeno un corso di menu engineering però poi nella praticità non si è saputo mai veramente ben applicare ecco questa storia di aver dovuto lavorare con le porte chiuse lavorare con dei menu disegnati apposta per gestire determinate cose sicuramente tutto questo ha insegnato che l'ingegnerazione di un menu va molto ben pensata i piatti non possono essere lì soprattutto perché sono buoni certo che debbono essere buoni ma debbono essere lì perché ha un senso di essere lì la comunicazione abbiamo parlato prima fa uno degli errori del passato molti hanno in progetto chiudo la porta e hanno avuto difficoltà di entrare in contatto con i propri clienti sembra una banalità ma sono aziende che per qualche mese hanno avuto difficoltà a dire io ci sono ancora e poi l'esperienza del cliente ormai ormai è chiaro il cliente vive due esperienze in due diverse linee in due diversi momenti vive l'esperienza online e l'esperienza offline il più grande problema è che l'esperienza che vive per primo al 99% il cliente arriva online cioè mi vede mi guarda mi segue attraverso i miei canali il problema è che poi quando arriverà nell'offline cioè trovare nel punto fisico dovrò riuscire a far sì che quello che lui ha vissuto come esperienza sia riportata anche dentro al punto meglio e qui bisogna essere bravi nel senso che bisogna essere rispettosi di quello che abbiamo raccontato per cui bisogna far sì che l'esperienza online offline in qualche maniera fra di loro si possano si possono come dire confrontare in una maniera reale per cui da dove è che vogliamo ripartire io credo che la ripartenza in qualche maniera ci porta su dei passaggi obbligatori la qualità della vita perché faccio parte di quelli che dicono che lo smart working il ritorno a derivere i propri quartieri la consapevolezza che qualità e bellezza saranno importanti la consapevolezza che tutto sommato ci sono delle possibilità a di fuori dell'abito di cui io mi occupo l'FMB ci sono delle possibilità economiche che potrebbero rilanciare un segmento un settore molto importante e per cui questa è uno dei motivi che mi porta a pensare in maniera ottimistica una sempre maggiore attenzione verso il prodotto da parte del cliente questo è storico da diversi anni a questa parte e lo sarà ancora di più la qualità al giusto costo perché viviamo anche in un'epoca in cui ai soldi è andato ancora più importante di prima per cui il lusso non è soltanto il lusso del mostrare una cosa lussuosa il lusso è anche nel riuscire a trovare un grande pomodoro a un prezzo giusto anche questo oggi è il lusso anche forse maggiormente lusso questo che la bottiglia di champagne perché la bottiglia di champagne è una buona carta di credito la posso comprare mentre un buon pomodoro se non ho una cultura e un posto dove andare non potrò mai non potrò mai accederci questo però non vuol dire che il costo non debba essere fuori controllo e poi il consumo ha ragionato oggi le persone sono molto attenti a cosa consumano anche da un punto di vista etico c'è una grande attenzione ai materiali che ci contano il prodotto e via dicendo per cui l'esperienza del pubblico attraverso questa serie di cose che abbiamo detto attraverso il digitale finirà all'interno di un luogo fisico dove il consumatore non cercherà solo il luogo dove consumare un pasto che lo diamo per scontato lo diamo per scontato sia anche molto buono ma un luogo dove vivere un'esperienza sempre più digitale per cui l'esperienza del cliente la food experience è sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista digitale le nuove occasioni lo smart working è una nuova occasione perché genererà in quartieri che fino a ieri non avevano neanche mai preso in considerazione l'idea che ci potesse essere una possibilità di business nella loro area e per cui genererà un volume di affari importanti nelle aree dove ci sono gli uffici storicamente non avremo uno svuotamento questo è chiaro avremo però sicuramente un riassestamento delle offerte perché a quel punto quando non c'è più il locale che fa 500 persone a pranzo è chiaro che avremo un atto di prodotto e di servizio e di nuovo ritorno alla parola di prima qualità e bellezza probabilmente in questi luoghi riusciremo a fare per qualche euro in più un prodotto più attento più curato e più buono e di nuovo un ricollegamento alla salute perché poi questo mi permetterà di avere un prodotto un po' più pensato e un pochettino più legato alla qualità intesa non solo come buona ma anche salutistica del prodotto che sto mangiando lo smart working ci dà anche la grande occasione di ripensare i quartieri ripensare i quartieri intesi anche come microcosmo delle città in cui viviamo città come Milano come Roma tendono ad essere molto dispersivi ma voi pensate una città come Milano che vive di un indotto impressionante di satelliti di piccoli cittadini che vivono intorno Padia e tutto quello che intorno a Milano esiste erano luoghi che solitamente Monza che localmente prima si svuotavano perché la gente andava a lavorare e verso le sette e mezzo otto si ripopolavano perché la gente tornava dal lavoro beh questo in qualche maniera gli analisti sono convinti che accadrà ancora ma in una frazione del 50% questo vuol dire che per questi quartieri o per questi piccoli centri urbani è una grande occasione è la grande occasione di non essere più soltanto tra virgolette usati ma diventare veri e propri posti che possono avere una loro vita con una funzione giornaliera del servizio tutto questo poi in qualche maniera mi porta anche a pensare ad esempio a una nuova chance per quelli che sono i mercati regionali chiunque di voi va in giro per i mercati regionali purtroppo avrà notato che con gli anni questi mercati un po' tutti sono andati in difficoltà vuoi perché esiste la grande distribuzione il supermercato che è chiaro che qualche cosa gli è andato a togliere ma vuoi anche perché le persone sono portate a vivere lontani dal luogo in cui abitano e magari nel luogo in cui abitano c'è un bellissimo mercato regionale ma per motivi di vita non ti dovi a frequentarlo per cui tutta questa cosa che genera lo smart working e per cui il ricollocamento e il riposizionamento delle persone all'interno della città è in realtà una grandissima occasione questa ancora di più vale per i piccoli centri che si trovano ad essere svuotati durante il giorno in cui si va a lavorare nelle città principali della propria regione e questo vale per i quartieri invece delle grandi città ma alla fine torniamo a parlare di prodotto il cliente cos'è che cerca su cosa dobbiamo lavorare noi beh dobbiamo lavorare su quello su cui da almeno gli ultimi 7-8 anni si sta lavorando e cioè la food experience è il successo di un nuovo format di vendita la capacità di relazionarsi con questa nuova realtà oggi un cliente si fidelizza in un luogo in un luogo in cui indubbiamente mangia molto bene indubbiamente mangia un prodotto molto ben raccontato che abbia un filologico indubbiamente un prodotto che abbia un costo giusto con frutto a quello che ha mangiato ma soprattutto il cliente torna in quel posto in cui ha fatto una bella esperienza oggi il cliente medio che esce da un ristorante difficilmente dice abbiamo mangiato molto bene o difficilmente dice che grande mangia che abbiamo fatto solitamente dice abbiamo una bella serata perché il cliente che esce è alla ricerca della bella serata il cliente che sta per prenotarsi la cena con degli amici in un luogo che non conosce va su google mette il nome del posto mette immagini e guarda che tipo di luogo è quello dove sta andando a mangiare per cui è la ricerca della totalità delle cose di un brand di un tono di voce di un modo di comunicare è la somma di quanto è buono un prodotto con frutto a quanto sta bene in questo ambiente con frutto all'acustia con frutto alle luci con frutto al servizio con frutto a tante cose per cui se vogliamo il lavoro del ristoratore oggi è ancora più complicato però questa ripartenza ci dà tutti quanti la possibilità di sistemarci le cose in casa e per cui c'entrano meglio gli obiettivi questo momento di fermo sicuramente è ammesso al pettine dei nodi e per cui questa è l'occasione giusta per ripensare a cosa accadrà nei prossimi mesi io reputo che da marzo aprile in poi lentamente il lavoro avrà una bella ripresa che sfocerà molto bene probabilmente verso settembre bene abbiamo tutto il tempo per far sì che i nostri luoghi molto semplici o molto complessi molto classici o molto di lusso riescano a parlare questo tipo di linguaggio per quello che oggi è il tipo di cliente che noi abbiamo anche perché torneremo a riaprire i nostri locali ma dobbiamo ricordarci che noi per una vita abbiamo fidelizzato clienti con grandi difficoltà siamo stati chiusi e ora dobbiamo riconquistarci questi nostri clienti che sembra una cosa banale ma non lo è ecco perché i canali digitali ecco perché la comunicazione in tutto ciò è fondamentale perché servono a far sì che in questo periodo che dura una settimana o dura un mese il mio cliente non si scordi ma di me per cui nuove strade che si possono andare a prendere non è detto che si deve prendere nuove strade magari qualcuno di noi già ha una di queste strade in casa ma non l'ha mai formatizzata non l'ha mai esaltata per quello che è i format identitari sono questi questi posti di grandissima identità dove si va perché sono una cosa ben precisa sulla quale uno punta può essere un luogo verticale del food mi viene in mente un posto che fa solamente pasta per cui un pasta away può essere un posto che fa semplicemente della pizza può essere un posto che fa carne alla griglia ma può anche essere un'ottima osteria di quartiere molto legata alla cucina tradizionale sono quei format che hanno una grande identità in quello che fanno poi questa moda molto grande che in questi ultimi anni ha preso un grande spazio specialmente chiaramente nelle grandi città e chiaramente anche molto in tutto quelli che sono le food court per cui questi grandi spazi food all'interno dei centri commerciali o dentro le stazioni o dentro gli aeroporti sono i prodotti verticali come dicevo prima prendo un prodotto e lo vado a scalare mi vengono in mente due esempi molto di poca in questo momento a Milano uno si chiama Pescaria che è un prodotto a base di pesce ma semplificato per cui il pesce all'interno di un panino o il pesce mangiato in maniera molto semplice non è un ristorante di pesce è un luogo che ha del pesce di qualità buono ben raccontato anzi molto ben raccontato che però è fruibile per tutti e questa è la grande chiave del successo per loro perché questa cosa li permette di comunicarsi verso i giovani in maniera molto facile avvicinandoli al pesce chiunque di voi sa bene che comunque quando dici la parola pesce automaticamente scatta il pensiero è caro ecco un locale vestito in quella maniera con quel tipo di prodotto fruito in quella maniera sicuramente riesce avvicinare i giovani verso un prodotto che solitamente i giovani lo vedono come caro un po' elittario e più si avvicinano in maniera più da grandi e non da giovani un altro esempio di grande successo è un progetto che sta sempre a Milano si chiama Mi Scusi ed è una verticalizzazione di pasta è un pasta away se non sbaglio 5-6 condimenti 2-3 diversi tagli di pasta ne hanno fatti 6 nell'arco di un paio di anni e ora stanno andando all'estero bellissimo modello anche questo è un verticale la polifunzionalità cos'è la polifunzionalità? sono questi locali di 300-400-500-800 metri quadrati molto grandi comunque al cui interno accadono più cose cosa vuol dire questo? vuol dire che posso tracciare sia la diversa tipologia di portafoglio ma posso anche tracciare il diverso tipo di stato d'animo e d'umore per cui un luogo per tutti i giorni per tutte le ore per tutte quante le occasioni ho voglia di farmi un aperitivo c'è un aperitivo ho voglia di cenare posso cenare ho voglia di una cena molto più importante posso fare una cena più importante perché il luogo ha la polifunzionalità all'interno del luogo chiaramente con la sua forte chiave identitaria si scalano i diversi piani di prodotto e di offerta ma tutti sotto lo stesso unico vestito e poi chiaramente abbiamo messo un minimo di occhio di attenzione su tutto questo mondo del delivery le dark kitchen le ghost kitchen le cloud kitchen e via dicendo sono molto curioso di questa cosa qui perché è diventata in questi ultimi mesi la domanda che più mi hanno fatto per il mestiere che faccio molta gente vuole investire in questo ambito io sono molto curioso perché siamo veramente all'anno zero c'è molto interesse tra queste cose vanno comprese e vanno capite meglio banalmente una dark o una ghost o una cloud sono dei laboratori con più postazione all'interno perché una grande cucina con più postazione all'interno dove dentro una cucina con un personale magari anche minimo puoi produrre prodotto per sei marchi per cui in qualche maniera in qualche maniera riesci ad avere un abbattimento dei costi avendo una diversificazione del prodotto da quella cucina esce la pizzeria da giggetto da quella cucina esce il prodotto della cucina classica italiana da quella cucina esce la friggitoria e via dicendo è molto interessante sulla carta ne abbiamo già fatte alcune abbiamo fatto già diversi business plan ecco vanno fatti con molta attenzione perché il primo sentimento è che siano indubbiamente una grande chiave di svolta e lo possono essere a mio fare molto attenzione a tutti quelli che sono i costi intorno basi dirne una i vari Glove Company che oggi sono un monopolio di questo tipo di servizio che non è soltanto una consegna ma è anche un servizio di vendita oggi prendono percentuali che vanno dal 30 al 35% per cui hanno dei costi molto elevati per cui questi sono sicuramente delle strade molto interessanti però se posso dare un consiglio vanno prese con le pinze perché vanno a studiare con grande attenzione grazie io penso di aver fatto è stato precisissimo è stato veramente precisissimo io volevo prima di passare la parola al prossimo relatore oltre che ringraziarti tornare proprio su una delle ultime cose che stavi dicendo circa il delivery e cioè il fatto e ne abbiamo parlato forse in uno dei forse dei primi incontri che abbiamo svolto sulla ristorazione e parlavamo di queste percentuali così elevate che vengono richiesti da questi sistemi di delivery come Glovo o altri però si diceva non c'è solo il servizio logistico dentro a questo c'è anche una cosa importantissima che è la la piattaforma esatto la piattaforma perché vedi allora secondo me il 30-35% è un numero molto alto che mette in grossa difficoltà l'istratore diamo questo per assoluto come tema perché altrimenti sì assolutamente sì è un numero alto però va anche detto che non è semplicemente una logistica non prendo un pacchetto lo posso dal punto A al punto B mi sono occupato di vendere il prodotto cioè io sono quello che ha venduto il prodotto per cui indubbiamente loro fanno un grosso lavoro come potrei immaginare Luisa questo è un campo anno zero perché qui ci siamo tutti trovati all'improvviso e io in questi ultimi mesi ho capito che non è poi che io prendo la pizza la metto lì dentro faccio la foto metto il prezzo e sto a casa e aspetto arriva l'ordine no perché devo mettere la pizza con un certo tipo di fotografia devo fare un determinato tipo di operazione nel prezzo e nell'offerta perché all'interno di ogni piattaforma c'è un algoritmo che legge la capacità di vendita e in base alla capacità di vendita decide se mi fa vedere in alto o in basso ora se io vengo visto in basso la pizza non la vendo per cui è un lavoro dove loro fanno un grande lavoro sulla piattaforma e sono bravi perché aggiungono migliaia e migliaia di persone ogni sera bravissimi però noi che mettiamo il nostro hamburger la nostra pizza all'interno dobbiamo capire che c'è una tecnica per mettere queste cose c'è proprio uno studio del marketing del prodotto del pricing in confronto alla concorrenza e anche uno studio su come si fa la fotografia per essere vista in una certa maniera perché se fai bene queste cose poi con la loro capacità di arrivare a casa delle persone vendi mi viene molto velocissima ma veramente velocissimamente da fare un parallelo a quello che è accaduto un po' di anni fa quando in altro settore cioè Airbnb ha lanciato il settore Experiences altro settore va bene quant'altro però e c'era chi pensava basta fare una foto scrivere due righe no anche lì valeva lo stesso cioè nel senso al di là del fatto che dopo la terza recensione negativa sei fuori senza proprio eri fuori senza nessuna possibilità di remissione però tutte queste piattaforme che hanno il loro plus oltre ai loro costi hanno ovviamente dei vincoli ben precisi per cui anche proprio di interfaccia da parte diciamo approfitto di te che hai detto Airbnb proprio per fare poi l'esempio contrario nel senso che io devo sapere bene facciamo un esempio di un appartamento io devo sapere bene come carico l'appartamento dentro Airbnb devo stare attento a tantissime cose che sono di contattura effettivamente visiva e di marketing ma se poi domani io decido che attraverso la mia comunicazione e io scavalco Airbnb arrivo prima devo sapere che questa è un'impresa titanica perché riuscire sul motore di circa Google a fregare booking Airbnb è impossibile la stessa cosa capita ormai già col prodotto alimentare se io non voglio usare Glovo ma voglio usare la mia piattaforma faccio una fatica impressionante assolutamente grazie mille per questo approfondimento con grande piacere che passo la parola a Roberto Vitale che è l'ultimo dei relatori di oggi in proprio nell'elenco dei relatori di oggi ma che tratta un argomento che comprende tutti gli argomenti un po' è l'argomento ombrello che è il tema dell'accessibilità dell'accessibilità in un'accezione che ci andrà a illustrare assolutamente a 360 gradi non gli porto via altro tempo a te la parola Roberto e buon lavoro grazie mille Luisa buongiorno a tutti e benvenuti grazie dell'ospitalità e del tempo che ci state dedicando per ascoltare queste proposte che ovviamente sono frutto della nostra esperienza io parlo di un argomento un po' più oscuro un po' meno conosciuto vi parlo di turismo accessibile parliamo di accessibilità e comincio con il condividere con voi lo schermo vediamo se mi date conferma che si vede correttamente si vede se però fai la visualizzazione a schermo intero ok allora si sta vedendo stiamo vedendo lo schermo sbagliato capita nelle migliori famiglie era troppo facile che andava bene a primo colpo e facciamo una cosa più semplice perché il doppio desktop a volte crea un po' di problemi chiedo scusa un secondo solo don't worry che la tecnologia si riprenda e vediamo di partire con ripartire con la condivisione ok ci siamo desktop uno ecco la condivisione che dovrebbe arrivare perfetto ok mettila pure dalla prima perfetto perfetto benissimo allora parliamo di accessibilità parliamo di accessibilità nel turismo parliamo di turismo accessibile e per cominciare chiaramente la mia prima azione è quella di proporvi un sondaggio che adesso arriva dalla regia per cercare di capire che cosa sapete di turismo accessibile qual è la vostra percezione come lo vedete come come lo interpretate anche nelle vostre attività di tutti i giorni rispetto a quello che è il mercato e quello che è la richiesta del mercato così nello sviluppo poi del mio intervento successivo cerco di andare dietro un pochettino anche alle linee di risposta che voi mi date ancora qualche secondo così vediamo le risposte che arrivano dalla vostra dalle vostre scelte ancora pochi secondi eccoci qua ok abbiamo una nuova opportunità di mercato un rispetto della legge su abbattimento delle barriere richieste toniche non ho le idee chiare in merito bene ok cerchiamo subito intanto di chiarire che cos'è l'accessibilità e prima di tutto cos'è l'accessibilità e il rispetto della norma quella che state vedendo è un'immagine di un bagno di un serilistigenico nel quale si vede nello specchio la testa di una persona che spunta questo è questo sono io che vedete e non credo che riuscirete a riconoscermi da quella foto però questa è una guest experience che offrono oggi le strutture che sicuramente stanno rispettando le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche e allo stesso modo possiamo dire anche questa è una struttura che sicuramente rispetta le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche perché come vedete il il water speciale la ciclista è completa il water speciale c'è il maniglione ce n'è io ho fatto questa foto l'ho battezzata come la sagra del maniglione ci sono maniglioni verticali orizzontali per tutto il perimetro c'è un lavandino speciale lo spazio di rotazione 150x150 c'è però insomma come dire mancano anche delle cose fondamentali come la tavoletta del WC che credo che ognuno di noi abbia a casa sua più altre amenità che possiamo riscontrare nella foto che cos'è che manca manca la tavoletta diciamo manca il comfort certo è che non credo che voi vogliate essere ricordati dei vostri ospiti con queste immagini così come non credo che un banco di un ristorante un banco di un bar o un banco di hotel che abbia queste caratteristiche rappresenti il modo migliore di accogliere di fare ospitalità bisogna riflettere su chi sono i nostri clienti perché ci sono persone in bassa statura ci sono persone in carazzina ci sono i bambini e qui chiaramente la relazione come dire non so se si nota il punto di altezza massima del bancone è superiore a quella degli occhi dei miei occhi e quindi sono sempre io che devo chiamare l'attenzione e conquistarmi l'attenzione da chi sta dall'altra parte del banco dicendo scusi scusi poi perché sono io che mi devo scusare qui vediamo anche un passaggio dove chiaramente non è solo una questione di qualità qui è una questione di sicurezza se una persona scivola cade per terra non è in grado di rialzarsi riuscire a raggiungere questo campanello per dare l'allarma e chiedere soccorso è veramente molto complicato quindi non credo che poi ognuno di noi nelle nostre aziende abbia voglia di essere ricordato con queste immagini dei propri clienti non bastava tutto questo ovviamente quest'anno 2020 ci siamo trovati ad affrontare anche il tema del new normal del covid delle esigenze legate alla sanificazione di garantire nuove procedure e qui abbiamo visto delle norme che ci hanno tirato fuori dei cestini del pattume che possono essere usati sulla piede che addirittura si consigliava di sostituire i rubinetti dei lavandini pubblici con dei rubinetti a pedale questo è un tornello dove bisogna infilare contemporaneamente entrambi le mani entrambi i piedi nella piattaforma che c'è sotto spingere il bottone rosso e attraversarlo per poter fare un'igienizzazione completa ecco questo per dirvi che tutte le foto che abbiamo visto creano situazioni in cui io in ognuna di quelle situazioni vado a cancellare un target di clienti ci saranno le persone che avranno difficoltà persone che non potranno proprio usufruire di questi servizi e questo crea una certa complessità cerchiamo però di conoscere meglio chi sono questi ospiti che cosa vuol dire turismo accessibile beh chiaramente oggi parliamo di ristorazione credo che questa nuvoletta rossa rappresenti ormai un mercato estremamente importante e ormai direi anche consolidato che è diventato sempre più in questi anni realtà io ricordo quando nel 2000 cominciavamo a parlare di celiachia di intolleranze alimentari persone che conoscevano la celiachia ce ne erano veramente poche ma io parlando di turismo accessibile vedete questi sono tutti i target del mercato del turismo accessibile a partire dalle famiglie ai senior persone con disabilità della vista dell'udito disabilità motoria con esigenze alimentari e soprattutto i senior se guardiamo bene il senior l'over 65 è quello che riassume un po' tutte queste esigenze perché magari ha problemi alimentari per la propria condizione di salute che deve seguire quando è in vacanza quando viaggia o quando lavora sono un po' ipovedenti magari hanno bisogno di portare gli occhiali o hanno una gradazione molto bassa sono un po' ipodenti hanno qualche difficoltà motoria possono avere anche difficoltà temporanea e questo per dirvi che dovremmo prestare un po' più attenzione alle esigenze che esprimono questi clienti perché sono sicuramente uno dei numeri più importanti che abbiamo Euromonitor International nel 2019 ci diceva che il 18% della popolazione mondiale è più di 65 anni e che i bambini e quindi le famiglie che stanno dietro sono 675 milioni in Europa Eurostat ci dice che entro il 2030 saranno il 34% le persone che hanno più di 65 anni e già oggi sono più di un miliardo le persone che hanno disabilità alle quali dobbiamo andare a aggiungere persone che hanno disabilità temporanee e poi le disabilità invisibili sono sempre sono sempre una parte del mercato li dobbiamo affrontare probabilmente in una maniera diversa noi siamo abituati che quando si parla di accessibilità abbiamo sempre a che fare con questo mino in carrozzina stilizzato dietro il quale ci dovrebbe stare tutto il contrario di tutto di tutti i bisogni che noi abbiamo visto qua in realtà è abbastanza afforbiante quel logo e poi parlare di disabilità porta immediatamente l'immaginazione a ragionare su medici su assistenti sociali su fisioterapisti perché la parola disabilità ha una connotazione una riconoscibilità soprattutto in ambiente medico sanitario e sociale l'approccio che vi vorremmo proporre è quello che oggi di cui oggi si parla di più che è lo human to human cioè quello di passare diciamo dalle disabilità ai bisogni cioè le esigenze che le persone esprimono durante la propria vacanza qui vale la pena se vogliamo affrontare questo argomento del turismo accessibile di cominciare a pensare come lo dobbiamo affrontare nelle nostre strutture oggi quando si parla di accessibilità la risposta standard è che io mi sento sempre dire e abbiamo sempre fatto così cioè questo è un esempio classico abbiamo uno spettacolo per far vedere lo spettacolo abbiamo sempre usata abbiamo sempre usato la staccionata abbiamo sempre messo le cassette su cui le persone si siedono lo spettacolo si è sempre svolto dall'altra parte salvo che non tutti vedono lo stesso spettacolo ne possono fluire nella stessa maniera e allora nasce la progettazione specializzata che negli ultimi anni è andata un po' per la maggiore e che come dire se il primo abbiamo sempre fatto così lo potremmo interpretare come la prima foto che vi ho fatto vedere il secondo della progettazione specializzata è quella del bagno con tutti i maniglioni della sagra del maniglione certo è che abbiamo creato dei prodotti che oltre ad avere un costo che ormai non è più sostenibile ha un'estetica è un design che non è assolutamente in linea con con le nostre strutture con i nostri ambienti quindi siccome nel turismo il design è sostanza perché fa parte di ciò che vendiamo probabilmente dobbiamo cominciare ad avere un altro approccio ed è quello dello universal design lo universal design o quella che noi chiamiamo accessibilità trasparente è un modo diverso di pensare a come trovare una soluzione per le esigenze di tutte le persone pensiamo alle persone come i bisogni che essi esprimono se noi invece di mettere la solita staccionata perché abbiamo sempre fatto così magari mettiamo una rete ecco che ci risparmiamo anche i soldi delle cassette perché tutti vedono esattamente lo stesso spettacolo e non dobbiamo spendere soldi aggiuntivi per adattare il nostro prodotto perché lo dovremmo fare? perché c'è un mercato se smettiamo di pensare agli standard e alle norme e cominciamo a pensare a un mercato che ha dei numeri estremamente interessanti come questi parliamo di 127 milioni di persone in Europa che sono interessate a far turismo parlo degli over 65 delle persone con disabilità che non viaggiano mai da solo è un fattore moltiplicatore pari due è una capacità di spesa pro capite overnight quindi oltre a pernotamento di 120 euro al giorno a testa e come dire hanno l'abitudine di fare più di una vacanza all'anno della durata media di oltre 10 giorni quindi siamo in periodi in cui si parla di short break di una notte di allungare il pernottamento di mezzanotte mezzo punto un punto 0,5% questi sono sicuramente clienti che possono dare una mano perché poi si muovono in bassa stagione e aiutano tantissimo le destinazioni perché oltre a ciò che spendono le persone per pernottare hanno una capacità di spendere sul territorio per ogni euro speso in pernottamento almeno 80 centesimi sulla destinazione questo ci dice l'indagine della commissione europea vale fino al 20% del fatturato di ognuno dei paesi comunitari e quindi può valere fino al 20% del fatturato aziendale e questo è estremamente importante stiamo parlando di business e stiamo parlando di mercato come lo dobbiamo affrontare l'argomento mercato serve prima di tutto un approccio business serve la formazione avere un linguaggio non si dice disabili o si dice diversamente abili avere le parole giuste è sicuramente importante per non dire importantissimo parlo con l'accompagnatore o parlo con la persona cieca la camera con il wc speciale per i disabili posso venderla a chiunque o la devo riservare sulle persone disabili sono sicuro di sapere interpretare correttamente le richieste che arrivano dai miei ospiti perché guardate che la risposta sbagliata ad una qualsiasi di queste domande cambia la relazione con il nostro ospite e può trasformarsi in una pessima recensione se siamo fortunati ma può essere anche qualche cosa di peggio io qui vorrei soffermarmi un secondo prima di darvi un ulteriore spunto di sondaggio perché vorrei chiedervi qual è adesso se mi fanno partire ecco qual è secondo voi il momento in cui noi possiamo cominciare a lavorare per l'ospitalità accessibile io in questi anni molto spesso mi sono sentito dire sì però prima di cominciare a lavorare per questi clienti io devo prima rifare tutta la struttura devo cambiare completamente il mio ristorante devo cambiare completamente il mio hotel le destinazioni mi dicono ah prima dobbiamo fare tutti i marciapiedi tutte le fermate degli autobus accessibilità questo probabilmente è un approccio che parte dalla incapacità di sapere affrontare questo mercato perché se noi aspettiamo che di essere veramente pronti per affrontare questo mercato dal punto di vista strutturale stiamo perdendo quello che è la richiesta del mercato oggi i numeri che vi ho fatto vedere sono numeri del 2015 ed ecco ecco quello che voi mi confermate anche la vostra percezione è proprio questo bisogna partire da ciò che esiste oggi infatti per questo servono informazioni oggettive non servono dichiarazioni di accessibilità servono competenze della persona serve formazione serve l'accessibilità trasparente servono destinazioni che sappiano fare a passare a fare questo passaggio dalla quello che chiamo l'inconsapevolezza della camera accessibile cioè della camera norma per disabili è una destinazione per tutti la destinazione è né più né meno una catena ed è ogni pezzo è concatenato ogni pezzo di questa filiera turistica è concatenato strettamente con tutti gli altri e la forza della catena è rappresentata dall'anello debole perché sarà quello che non sarà capace di rispondere alle esigenze l'organizzazione del viaggio l'arrivo gli spostamenti la sistemazione gli alloggi cibo le bevande l'attività lo sport tutti questi devono parlare di accessibilità avere competenze diffuse e saper rispondere alle esigenze del mercato vediamo proprio per passare al pratico che cosa vuol dire progettare un'accessibilità trasparente Achille Castiglioni prendo sempre prestito questa sua frase che diceva bisogna progettare per un fruitore ignoto ecco la cattiva progettazione dico io avviene perché la gente non pensa e che molto spesso non ne ha non ne ha le competenze ad esempio per progettare un ristorante per cominciare ad avere un'attenzione all'accessibilità non bisogna solo pensare alle norme sull'accessibilità come una serie di elementi prescrittivi tanto per dirvene una nel bagno tra virgolette per disabili non c'è scritto da nessuna parte che ci deve essere un wc speciale c'è un si consiglia tra l'altro nei vari regolamenti di fare il bagno accessibile nel bagno delle donne e non si capisce perché un uomo quando va al ristorante dovrebbe andare e avere piacere di andare nel bagno delle donne se sta se ha un problema di accessibilità e non capisco perché le donne dovrebbero avere piacere di avere e di condividere il bagno con un uomo perché ha difficoltà motoria in realtà con le norme attuali è molto semplice è molto spesso è possibilissimo creare due bagni completamente accessibili e fruibili per entrambi poi bisogna avere tutta una serie di attenzioni come la pendenza delle rampe di accesso far sì che non ci siano solo i gradini all'ingresso avere percorsi che siano complanari siano perfettamente accessibili avere dei tavoli che presentino delle caratteristiche di accessibilità ad esempio il tavolo tondo con il piede centrale deve essere meno di un diametro di 120 cm per consentire un facile accostamento se una persona utilizza una carrozzina per muoversi ma soprattutto è direi indispensabile per facilitare la comunicazione se tra gli ospiti abbiamo una persona sorda perché ovviamente possiamo vederci tutti in faccia e leggere il labiale e tante altre caratteristiche sulle quali bisogna prestare attenzione ad esempio avere del personale formato perché se una persona cieca o una persona in carrozzina si presentano al ristorante e chi prende la comanda si rivolge a chi è assieme a questa persona con disabilità e dice per il suo amico cosa le prenoto cosa comanda a me è successo più di una volta che chiedono a mia moglie che cosa mangio io è chiaro che questo dà la misura della difficoltà di relazione con me che sono il cliente poi soprattutto se sono io che faccio la domanda sono io che vorrei avere la risposta guardate sicuramente siete e avete già vi siete già trovati ad affrontare il tema delle esigenze delle allergie delle intolleranze elementari attenzione sono grandi differenze tra allergie e intolleranze poi c'è le chia vegan vegetariani kosher halal sono tutti argomenti di cui in questi anni ne abbiamo parlato molto e di cui il nostro sistema della ristorazione ha preso coscienza e ha capacità di risposta ma la risposta deve essere anche una risposta di qualità che non sia una risposta sempre di ripiego a me è capitato di avere un periodo in cui ero intollerante al lattosio e mi sono visto dare dell'insalata e delle fette di prosciutto salvo poi scoprire che in effetti il prosciutto era di quello che non era senza lattosio e una cosa importante è il menu il menu è lo strumento con cui vendete avere un testo con le grazie con tutti quegli arzigogoli sicuramente non è facilita la lettura pensate a quante persone sono i povedenti io stesso se mi tolgo gli occhiali non sono in grado di leggere i messaggini sul cellulare sicuramente non sono nelle condizioni di leggere il menu che è lo strumento con il quale voi mi state vendendo i vostri servizi allora magari usiamo dei caratteri puliti senza le grassi come si dice ingranditi portati almeno 16 dpi pensiamo la possibilità l'opportunità di avere un menu in braille di avere un menu in ca in comunicazione alternativa aumentativa che risponde alle esigenze delle persone con disabilità cognitive e cognitive relazionali sono tante le possibilità con cui noi possiamo facilitare lo stare nel nostro locale in servizio alle persone con disabilità vi faccio vedere questa foto per farvi vedere come un bagno può essere adattato può essere accessibile può essere gradevole e non ha bisogno di tutti quegli orpelli che abbiamo visto nelle foto precedenti e comunque ripeto perché poi i maschi li dobbiamo mandare nel bagno delle donne o viceversa se facciamo accessibile il bagno dei maschi le donne dovrebbero andare nel bagno dei maschi perché il turismo accessibile è interessante vi faccio vedere un paio di numeri che sono frutto dell'esperienza maturata da alcune strutture che fanno parte del nostro network oggi Village4Ola ho più di 80 strutture in 15 diverse regioni che fanno e rispondono nel nostro network agli esigenze di turismo accessibile quella che vedete è l'ermitage per l'air hotel di Abano Terme e ci fa vedere come una suite tradizionale di alta gamma ristrutturata con lo universal design può incrementare i propri fatturati fino al 29% questo è il numero che ne viene fuori perché guardate come le notte medie passano da 240 a 340 come la permanenza in giorni passa da 6 giorni a mezzo a 10 giorni a mezzo e la revenue sui servizi extra da 19.000 a 25.800 euro questo è un campeggio che di Comacchio l'Holiday Village Florence che da anni lavora su turismo accessibile e questo è il fatturato 2019 stiamo parlando di 337.000 euro e il 12% del fatturato complessivo dell'azienda e il proprietario dice io non ho sostituito degli altri clienti lavorando sul turismo accessibile ho acquisito dei clienti che prima non avevo quindi è un mercato che si aggiunge al nostro mercato presente ma soprattutto è un mercato che consuma che compra in questo caso la mezza pensione o la pensione completa e compra tutti i servizi quindi per innovare chiaramente bisogna cominciare ad andare oltre alla singola struttura perché uno da solo non fa territorio bisogna passare a una destinazione per tutti Bibione è stata la prima destinazione turistica in Italia che già tre anni fa ha cominciato a lavorare abbiamo sviluppato su questo territorio un progetto a tutto tondo che collegasse la raccolta delle informazioni affidabili al monitoraggio del prodotto turistico al monitoraggio dei trasporti a livello locale creando competenze tra gli imprenditori i propri collaboratori delle varie imprese nel commercio nella ristorazione nella ricettività curando la comunicazione i media manager perché bisogna anche comunicare nella maniera giusta teniamo presente che non c'è solo l'abbattimento delle barriere architettoniche c'è anche la necessità di avere dei siti internet accessibili l'accessibilità del sito internet è un valore indispensabile tanto più che nel 2025 questa cosa sarà obbligatoria per tutte le imprese compreso le imprese turistiche le imprese private quindi c'è da valorizzare anche tutto ciò che il territorio offre compreso le esperienze a livello locale quindi andiamo a coinvolgere tutta la DMO ma soprattutto lavorare su una destinazione turistica accessibile significa innalzare la qualità dell'offerta turistica e la qualità dello stare nella propria destinazione per chi vi abita poi abbiamo curato anche il portale per realizzare un portale accessibile servono destinazioni ospitali quindi vedete alcune con cui abbiamo lavorato chiaramente abbiamo anche delle destinazioni nella nostra regione come Comacchio e soprattutto però se si decide di lavorare su questo mercato perché comunque ci porta ci offre un fatturato del 20% una possibilità di incremento del fatturato del 20% perché oggi succede che le persone non trovano le strutture adeguate e le loro esigenze bussano alle porte anche l'altro giorno parlavo con un albergatore che mi dicevano io mi diceva io ho ospitato due persone cieche che sono venute in vacanza da me mi sono preoccupato tantissimo quando ho ricevuto la telefonata e soprattutto sono rimasto abbasito quando ho sentito che io ero la diciottesima struttura che contattavano per cercare di fare le proprie vacanze e pensate alla complessità di un'organizzazione del genere perciò servono informazioni affidabili competenze del personale accessibilità del luogo accessibilità del sito internet e quindi lavorare su ospitalità accessibile significa stesso luogo stesso prezzo più ospiti questo è il mandato quello che diciamo noi è sempre a ciascuno la sua vacanza questa è la nostra mission e cerchiamo di garantirlo con il nostro lavoro Luisa grazie Roberto non ti ho interrotto ma ormai sono tanti gli incontri che abbiamo svolto insieme e come sempre ci sono i temi che hai riassunto anche alla fine che restano i temi forti della tua presentazione che come ti dico sempre parte in modo molto forte e poi prosegue con il dettaglio e alla fine anche con quello che è il piano economico proprio perché alla fine quella che tu hai fornito ai partecipanti oggi sono cifre budget numeri e vale per la risurazione riscontrabili esatto fatti da imprenditori a colleghi imprenditori esatto non li propongo io esatto sono cifre che arrivano da quando l'imprenditore a fine anno tira la riga passami un po' il termine sicuramente il concetto di questa accessibilità che è un'accessibilità a 360 quindi lo universal design prima di tutti lo dobbiamo fare qua dentro cioè togliere quelle cassette mettere la rete dentro il cervello perché a volte ci precludiamo dalla vista imprenditoriale delle opportunità fra l'altro come quelle appunto di considerare accessibilità abbiamo detto anche ovviamente tutto il comparto delle intolleranze alimentari che per l'ambito ristorativo è importantissimo dei senior delle famiglie quindi veramente di un ampio raggio di azione e poi mi piace moltissimo lo sai il discorso quando tu dici basiamoci l'hai appena detto su dati informazioni quindi descriviamo anche nella nostra comunicazione forniamo informazioni in risposta dei bisogni ma delle informazioni con dei numeri certi certificati e verificabili e la necessità della formazione perché non ci si può improvvisare in nulla mai a maggior ragione in questo momento a maggior ragione in questo settore cioè quindi anche quel io di recente ho avuto un confronto lo voglio chiamare così con dei proprietari di agriturismi qua nella mia regione sto curando un progetto per regione Liguria e mi dicevano noi se abbiamo l'accessibilità ai disabili dico sì ma in che senso cioè sono benvenuti benvenuti dico ma cosa intendete a tutto e quando mi dici io sto monitorando le esperienze turistiche proprio proposte dagli agriturismi io dico sono accessibili anche le esperienze cioè sono fruibili anche queste come sono state costruite cioè è un è tutto un riavvolgere veramente la bobina non indifferente però in effetti per chi è disposto e si impegna in questo percorso gli spazi sono notevoli oltre a quello che è un discorso proprio di civiltà e quello che ci ricordi tutte le volte cioè dal 2025 tutti i siti dovranno avere certe caratteristiche non soltanto quelle della pubblica amministrazione e quant'altro quindi nuovi spazi io a questo punto è aperto il question time se avete le vostre domande noi siamo pronti a girarle ai nostri relatori in attesa che arrivino proprio anche vostre domande io una domanda ce l'ho per Valentina Valentina te l'ho già posta simile forse l'altra volta parliamo di turismo di prossimità l'abbiamo sentito quest'oggi l'intervento di APT regionale ci ha anticipato che sarà un turismo di prossimità sicuramente ancora per un bel po' di tempo che significa dall'interno della regione alle regioni con termini quelle più vicine fra tutti gli strumenti che tu hai citato poc'anzi sicuramente in un ambito simile google my business può essere non il servizio ma uno dei primi da verificare che funzioni bene giusto quali sono i consigli per verificare a di tanto verificare se ci si è su google my business e i consigli al volo proprio per impostarlo correttamente fondamentale sì soprattutto per quello che stavi dicendo adesso ma in generale per tutto quello che è posizionamento visibilità della nostra sede fisica perché poi google my business è la scheda di un indirizzo fisico quindi va intanto creata ovviamente un match con la mail gmail possibilmente aziendale perché poi sarà la mail a cui arriveranno tutte quante le recensioni richieste di prenotazione e quant'altro quindi fondamentale che sia una casella mail che viene monitorata dalla proprietà o da chi si occupa della comunicazione quotidianamente tutte le informazioni devono essere ovviamente correttamente utilizzate facevo l'altra volta dall'esempio che sotto lockdown google ha preso l'iniziativa di mettere la dicitura chiuso a tutte quante le attività che non avessero aggiornato i propri contatti e pensate tutti quei ristoratori che non gestivano il proprio my business non l'hanno neanche reclamato quindi non sapevano neanche dell'esistenza e continuavano a risultare chiusi nonostante poi nei mesi successivi avessero riaperti quindi un danno incredibile perché la gente poi pensa che online si pensa che questi canali siano dicano il vero quindi tu vedi chiuso non chiami non prenoti neanche e perdi l'occasione di avere convertito potenzialmente quindi tutte quelle che sono le informazioni sugli orari adesso per i giorni di festa la stessa cosa quindi settare adesso siamo in un periodo un po' particolare ma normalmente il problema di dire il 24 il 25 sono chiuso sono aperto è un problema reale all'interno della piattaforma o l'uno insomma tutto quello che è sono le date delle feste delle ricorrenze poi come dicevamo monitorare e gestire le recensioni ma non tanto per chi lascia la recensione che comunque ci dedica del tempo ed è giusto che venga ricambiato quanto per poi chi andrà a leggere il modo in cui noi abbiamo risposto cioè rispondere alle recensioni e gestire la community è un'attività anche di branding perché è fondamentale per poi l'utente che ci viene a cercare o trova la nostra scheda e va a curiosare vedere che noi siamo solerti che siamo attenti abbiamo un servizio clienti anche digitale molto puntuale che siamo interessati o sarà un dialogo con il nostro pubblico e anche il modo in cui rispondiamo quindi propositivo costruttivo un dialogo aperto non il dialogo del ristoratore piccato che risponde alla recensione di pancia noi su questo lavoriamo tantissimo sempre nell'ottica del tono di voce della personalità e filtriamo tanto perché tutti i nostri clienti ovviamente sono chiamati in causa in prima persona quindi vorrebbero sempre dare le risposte di pancia invece la bravura sta nel creare e confezionare le risposte personalizzate che diano la soluzione a quella problematica e diano quando serve chiedano scusa se c'è da chiedere scusa chiariscano nel caso in cui purtroppo come accade a volte la recensione sia fake quindi sia magari un competitor che ti lascia la recensione cattiva perché ti vuole mettere in ombra e allo stesso tempo le utilizzino per fare anche un po' di upselling passate milterne capitato per esempio il nostro cliente avesse avuto un problema reale di sala e chiedendo scusa quindi pubblicamente abbia sul nostro suggerimento proposto poi uno sconto per farlo quindi far ritornare il cliente farlo consumare con uno sconto e poi con lo scatto social ripostato sui canali quindi una storia a lieto fine quindi anche quegli strumenti che possono sembrare anche a volte un po' inutili perché uno pensa vabbè non metto il budget non c'è la campagna posso lasciar perdere invece no perché sono molto insidiosi soprattutto un canale come My Business che appunto racchiude in un riquadro quindi come dicevo prima dritto è comprensibilissimo è leggibilissimo tutto quello che c'è da sapere sulla tua attività quindi il consiglio è che si tratti di Google My Business o di TripAdvisor dove comunque l'azienda si trova perché se ci sono delle cioè si trova quasi in automatico se esistono delle recensioni anche su TripAdvisor avere governo della situazione essere presenti volontariamente con un profilo e curarlo e seguirlo anche parliamo di food experience per quanto riguarda l'aspetto dei visual quindi anche delle foto e quant'altro invece che avere quelle orribili foto quando ti prende in automatico Google My Business cosa può fare ti prende Google Earth e inquadra di solito il cassonetto o la macchina in seconda fila davanti al ristorante l'integro solamente con una battuta è che queste sono piattaforme democratiche quindi mentre le pagine sui social decidono quello che vogliono dire raccontare di sé certo l'utente può lasciarti il commento ma tu puoi cancellarlo su queste piattaforme non è così cioè prima di dimostrare che la recensione è fake devi contattare l'assistenza di TripAdvisor e a lungo dare documentazione eccetera per dimostrare che guarda lui parla del sushi ma io faccio carbonara non è un mio cliente che mi sta lasciando la recensione quindi perché il potere è del pubblico cioè è giusto che siano da questo punto di vista le piattaforme aperte che diano l'occasione al tuo cliente di dire come si è trovato e raccontarlo e democratizzare appunto l'esperienza agli altri ora c'è una domanda veramente tosta un'azienda piccola ha il problema di stabilire quali canali presidiare perché sa in partenza che non potrà presidiarli tutti come scegliere? dipende cosa promuove cosa vuole promuovere quindi quali sono i canali sicuramente immancabili per quella strategia potremmo anche dire facciamo solo contenuti su TikTok non utilizziamo nient'altro per farvi un esempio paradossale perché TikTok sappiamo che è uno strumento ludico anche se si è fatto grande strada nell'advertising quindi potremmo dire che ci sono 3.000 strumenti ma anche le aziende grandi non è detto che debbano usarle tutte io vi invito a pensare a alcune grandi aziende che hanno il profilo Twitter fermo dal 2015 perché non ha senso un canale istituzionale non è detto che per quel tipo di azienda vada bene stessa cosa per LinkedIn quindi io non faccio mai combaciare il concetto di azienda piccola con minor numero di canali ma anzi proprio perché piccola potrebbe essere interessante lavorare su meno canali quelli giusti e con una partecipazione e un dialogo e la creazione di contenuti quanto più sartoriali e personalizzati possibili meglio sceglierne due poi dipende da qual è ripeto il core business ne possiamo parlare e ci confrontiamo è decidere come impostare una strategia che magari su quei due canali sia più più costante più martellante io consiglio sempre capisco il sito è uno strumento a volte costoso va sviluppato va pensato va scritto quindi comunque non è qualcosa che ci si può fare in casa però partire da queste piccole cose come appunto la scheda google my business o trip advisor che hanno costo zero si tratta solo di un investimento di tempo come dicevi tu poco fa e poi trovare un altro paio di canali che con il contenuto creativo giusto e carino possano rappresentare al meglio l'offerta potrebbe già essere una buona partenza e concludo che le piattaforme social mettono a disposizione anche su messenger una serie di percorsi che si possono fare per il contatto diretto col cliente che non sostituisce chiaramente il sito ma che dà l'occasione di avere comunque una conversione alta se uno è rapido nella risposta e sa porre le domande giuste e come dicevamo prima la possibilità di inserire il bottone per collegare il whatsapp aziendale o privato insomma scegli l'imprenditore benissimo a me viene da dire anche magari ne parliamo dopo ovviamente unire a questo la conoscenza di quelli che sono i canali maggiormente utilizzati dal proprio pubblico nel senso che oltre a conoscere il tuo core business devi anche sapere più o meno in funzione anche di ora passo la parola a Dario Laurenzi di quei format di cui c'è stato che abbiamo approfondito poc'anzi quindi se sappiamo più o meno qual è la nostra fascia di clientela se c'è una fascia di età piuttosto che un'altra con certe abitudini quindi anche quello dov'è che poi li pesco di recente una nostra collaboratrice che ha beata lei vent'anni meno di me è venuta è andata a Roma proprio qualche mese fa e lei voglio dire la ricerca dei ristoranti l'ha fatta cercandoli su Instagram voglio dire ha fatto proprio ha fatto il monitoraggio della sua della sua percorso incrociando i dati con TripAdvisor o quant'altro ora la mia generazione era abituata a fare le ricerche e le faccio ancora sulle guide quindi come dicevi poco anzi le Michelin piuttosto che altre e poi a fare gli incroci e poi soprattutto il passaparola comunque degli amici questo è poco ma sicuro Dario prima ci hai prospettato quelli che sono questi macro tendenze anche a livello di format vogliamo chiamarli così dalla verticalizzazione pensando proprio al territorio di cui stiamo parlando quindi all'area di Bologna di Modena e anche in questo caso come rendere ancora più un input un consiglio sono già luoghi fortemente identitari perché hanno un'identità molto forte una gastronomia fortissima Paola Frabetti ci ha parlato oggi ci ha ribadito di tutti i suoi primati voglio dire della regione anche dal punto di vista della certificazione qualche input proprio per la ristorazione di questo territorio la ristorazione anche tipica delle aree non urbane ma delle aree ad esempio collinari piuttosto che dei paesi più piccoli dei centri più piccoli se facciamo se abbiamo voglia di fare gli imprenditori a Bologna e a Modena chiaramente farò un tipo di ricerca che mi fa comprendere dove io voglio mettere la mia impresa che cosa c'è cosa non c'è quali sono le tendenze ai mercati e cerco di disegnare un percorso per Modena e Bologna quando comincio ad andare in provincia esco fuori parlo su una meravigliosa collina è quelli che cambia totalmente il discorso perché divento un destination cioè non sono più un posto dove comunque sia io negli incroci della tua vita e della tua giornata ti capiterò sotto gli occhi non è più così sono andato in un posto in cui sono destination per essere destination bisogna avere una profonda identità e forza perché altrimenti difficilmente mi muoverai affinché io monto in macchina faccio 20 minuti in macchina per andare a mangiare lo faccio tanto che lo racconto e questa cosa mi riporta a quello che ho detto poco fa Valentina cioè mi riporta la tua domanda come faccio a scegliere io direi che è arrivato il momento di sfatare questa cosa e non è il momento che qualcuno deve dirlo in maniera chiara a tutti quelli che comunque voglio fare nella vita agli istituzionatori è un tipo di lavoro che deve fare un professionista non si può pensare di lasciare un canale in gestione a persone che non hanno una conoscenza del meccanismo perché stiamo parlando di un'occasione di business cioè stiamo parlando che se io apro il mio ristorante in collina come tu mi proponevi poco fa e io non sono cannavacciuolo che col mio nome da solo porto le persone ovunque io sono Dario Laurenzi non sono uno chef non mi conosce nessuno bene è chiaro che farò un lavoro mio personale nel locale di fidelizzazione di passaparola cercherò di fare rete con tutti quanti i produttori locali che mi portano il prodotto e cercherò di a macchia piano piano estendermi però è anche vero che oggi esiste un mezzo e per cui vedi bene che la tua collaboratrice è andata su Instagram a cercare di andare a mangiare per cui o noi capiamo come funziona oggi il mercato il mercato oggi funziona che le persone ci scegliono in base a delle cose allora o noi sappiamo andare là in quel punto lì per fare questo tipo di pensiero o altrimenti diventa tutto quanto molto complesso un vostro emerito importante dico corregionale in realtà se non sbaglio Stefano Bonilli era un bolognese io non vorrei sbagliarvi ma Stefano Bonilli era un bolognese Stefano è stato sempre una persona a me molto cara che mi ha sempre sponsorizzato quando ero giovanissimo ha creduto in me mi ha sempre molto spronato pochi giorni prima che morisse mi chiamò perché avevamo fatto una chiacchierata qualche giorno prima avevamo parlato di aziende e come impostare i locali grammi aziendali mi chiamò e mi disse stai ho ripensato la nostra chiacchierata dice tutto molto corretto parliamo di 8-10 anni fa tutto molto corretto ma c'è un problema nel locali grammi non è messo un social media non è pensabile oggi fare ristorazione senza avere persone che hanno queste competenze all'interno perché sono le competenze che valgono quanto un direttore quanto un cuoco per cui io penso che questo discorso del apro l'isolante in collina o lo apro anche sulla via principale oggi devo comunque avere delle competenze e se non ho queste competenze devo andare ad un'agenzia esterna che mi porta a casa quella competenza d'altra parte non chiamiamo un'agenzia esterna a farci l'HCCP o a farci la sequenza sul lavoro e via dicendo perché lo facciamo? lo facciamo perché non abbiamo le competenze e d'altra parte vent'anni fa trent'anni fa era il ragioniere neanche il commercialista che faceva le buste pache e faceva tutto lui oggi c'è il consulente del lavoro questo è un mondo che si va sempre più specializzando e l'impressione che io più frequento la ristorazione e la frequenza non lo so bambino purtroppo e più vado avanti è che tutti quanti reputano che tutto sommato la comunicazione è una cosa un po' marginale e tutto sommato se queste quattro foto le fa il figlio che c'ha una bella mano e sotto si scrive oggi mamma ha fatto la pasta funziona perché in età può anche funzionare quello ma c'è un meccanismo che è dietro le quinte che nessuno vede che è molto complesso che fa sì che io e te fra un mese prendiamo la macchina e andiamo a mangiare in collina allora o questo argomento lo si prende con una certa professionalità e allora porta dei risultati o altrimenti se si continua a essere un appendice una cosa sì ma dai facciamola non ci rendiamo conto che abbiamo una porta sulla strada chiusa sbarrata in cui non permettiamo ai clienti di entrare assolutamente d'accordo al volo due considerazioni la prima mi ricollega all'ultima cosa che hai detto mi è capitato io sono Ligure non in Emilia in un'altra regione che amo molto che è il Veneto in un bellissimo ristorante di Padova di andare con mio marito ci portano i menù si sbagliano e mi mettono fra le mani il menù in inglese e il menù in inglese ha una che si occupa di mestiere di inglese dell'enogastronomia un invito a nozze perché vai a pescare inizia a leggere e vedo negli antipasti mi ricordo browse mushroom browse mushroom questa mi mancava dopodiché però fa il percorso mentale millefoglie di porcini traduttore automatico sfogliare e tu browse quindi un ristorante che aveva uno scontrino medio sì esatto browse porcini ho immediatamente fotografato perché io ho il mio sito ovviamente la mia cartella degli orrori come tutti voi secondo me professionisti ce l'abbiamo tutti e la cito nei corsi ora dopo aver riso però comunque ho chiamato dopo ho preso da parte il proprietario e ho detto hai uno scontrino comunque da 60 euro a persona è un ristorante tutto su agne e poi fai stato eh sì ma abbiamo l'ha fatto mio figlio famoso figlio che fa le foto ha fatto e ho detto io dico al suo figlio di non usare più google translator ma semmai gli dico qualche altro programma ha detto ma anche no lo chiedo a un professionista che si occupa di questo e ora francamente ora parte la battuta però questo veramente è la caduta per risparmiare veramente poco e perdere molto perché perdi un sacco di vendite la seconda è molto così Luisa nella distrazione purtroppo la distrazione confronto a tutti altri tipi di imprenditoria è probabilmente uno dei canali dove c'è più da lavorare dove c'è più più in basso ma diciamo ci sono anche maggiori spazi di crescita se vogliamo rovesciare come fai tu l'esempio del metanolo se vogliamo dire e termino con questa a proposito di colline io uno dei ricordi più belli che ho di Modena è stata una sera che mi hanno portato a mangiare dagli amici modenesi a Guiglia e praticamente che è una collina proprio nelle colline intorno a Modena è appena scesa dalla macchina appena incontrato la prima persona per strada in questo bellissimo borgo mi sono sentita salutare accogliere benvenuta a Guiglia al balcone delle miglia venga qua che le faccio vedere di fronte c'è Zocca dove è nato Vasco Rossi ma subito ero frenziato sono entrata in questa trattoria antica bellissima e il primo a proposito di food experience ed ho passato una magnifica serata è stato ci sediamo intorno a un tavolo ovviamente è poca pre-covid e viene messa sulla tavola un tagliere con una magnifica coppa di testa e viene lasciata lì come dire fate quello che volete sapendo benissimo che non l'avremmo mangiata tutta ovviamente ma è stata l'accoglienza studiata nel senso che lì dietro c'era quell'esperienza che dicevi poi la cena è stata gradevolissima e quant'altro ma c'è proprio e questo è una cosa che da Ligure e da consulente Ligure quando guardo all'Emilia a Romagna guardo con grande veramente chapeau come si suol dire c'è in nato una capacità di accoglienza e sicuramente anche per quella che è proprio la storia che vi ha forgiati così di accoglienza ma devo dire che nel momento in cui questi non sono elementi che puoi insegnare nei corsi non ci si inventa questa è frutto di un'esperienza probabilmente di cent'anni che ha aperto con la trattoria con l'osteria e la mescita ricordiamoci che Peppino Cantarelli cioè davanti a uno dei ristoranti più ambiti al mondo c'era la tabaccheria cioè si vendeva i sigari e il tabacco tu hai detto un nome che se adesso qui fai alzare la mano a chi è che conosce Peppino Cantarelli in pochi l'alzano tu hai trovato un nome perdonami io te siamo coi tanni forse anche tu sei più giovane di me ma hai detto un nome veramente ancestrale ho detto sì ho usato il nome ancestrale perché una delle prime dei primi ricordi che ho di mio padre era dei suoi racconti di quando andava da Cantarelli partivano in tour e soprattutto poi mi ha fatto vedere in televisione anche le repliche di Mario Soldati da Cantarelli e di Veronelli e tutto è ovvio ma qua parliamo proprio della storia e di una cosa che scende altro bel ricordo Fontanellato la prima sera in cui sono arrivata quindi mi sposto nel parmigiano l'ambrusco è servito nella ciotola ecco tanto per dire nella ciotola nella scodella dietro quel gesto c'è già un'esperienza basta veramente proprio un momento ma va o ce l'hai nel DNA o lo devi programmare termino veramente i format quelli che tu dicevi multifunzione mi viene in mente vent'anni fa in Svizzera Mövenpick queste queste gran surface dove avevi da una parte addirittura vi han fregato la sdora cioè la signora che impastava era a Lugano vi han fregato le sdore ve lo dico vi han fregato le sdore però impastava per poter per la perché così promuoveva il settore pasta contemporaneamente potevi prendere l'aperitivo mangiare il gelato cenare a buffet oppure mangiare proprio seduto dall'antipasta al dolce col carrello dei dolci elegantissimo tipo grande ristorante svizzero quindi in effetti è un mondo molto bello io sto provando a rilanciare il caldo dei dolci in diversi progetti provo mi guardo con gli occhi storti quando lo dico secondo me è una cosa più bella che esiste il caldo dei dolci assolutamente noi abbiamo qui a Roma un Italy che fa un servizio con il carrello dei gelati che viene al tavolo ed è un valore che se tu non stai a tavola e non ti dico la scena non puoi capire di che si basta pensare a Parigi nelle brasserie di gran nome San Germain o quant'altro che arrivano passa al cameriere va in giro con questo enorme plateau di dolci macarons o altro eclair e anche se non hai fame comunque voglio dire poi finisci ovviamente giustamente upselling c'è un'altra domanda altra provocazione tornando al discorso di prima dei canali quindi forse è meglio fare meno ma meglio ma a tutti questo lo chiedo personalmente sono una fan della qualità mi sono spesso sentita dire nel mio essere stacanovista che l'ottimo è il nemico del bene ancora devo capire se ci credo o meno questa cosa ve lo farò sapere se parliamo di comunicazione sì perché il rischio del fail dietro l'angolo il rischio dell'errore o del contenuto sbavato che rovina tanto lavoro e tanto sacrificio lo stesso può succedere succede quando uno è sovrappensiero quando pensa di fare qualcosa bene pubblicare magari il video perché parlo sempre della comunicazione gestita in maniera amatoriale dal figlio dal cugino dal personale di sala che in realtà è lì per fare altro fa un video lo posta non sapendo che magari in quel video sono rappresentate dieci cose che online non dovresti mai far vedere perché ti crocifiggono quindi per quanto mi riguarda che sia gestito in casa o che ci sia un professionista meglio mettere a fuoco e a frutto degli elementi specifici valutarne lo sviluppo il risultato che non avere quell'ansia schizofrenica di essere ovunque fare tanto confondere l'utente stressarlo e poi non riescire neanche poi a capire quanto si può raccogliere di quello che si è seminato poi ci sta faccio un esempio concreto di un nostro cliente che ha un locale sulla scena dei club berlinesi quindi birra artigianale food molto aggressivo musica industrial sperimentale molto di nicchia gratuita gratuita vuol dire che lui tutte le sere fa un concerto con un artista diverso lo vuole ovviamente raccontare la mia osservazione è stata bene però se noi tutti i giorni pubblichiamo un contenuto musicale la locandina perché poi vedetelo lato artisti ogni artista vuole la sua locandina vuole la sua visibilità vuole essere taggato vuole che il suo pubblico veda che partecipa a quella serata c'è una rete anche lì sappi che i nostri dati scenderanno a picco perché noi saturiamo talmente tanto la nostra fanbase di contenuti tutti i giorni che la gente si stufa a un certo punto dice a facebook non farmi più vedere questi post non voglio e succede c'è davvero un tasto che l'utente che tutti noi possiamo cliccare quando un'inserzione o qualcosa ci disturba però in quel caso la scelta condivisa col cliente è stata non importa perché sacrifico un dato analitico che tu mi stai spiegando e che ha un suo senso in favore della relazione che io ho con quelle persone che devo mantenere quindi so per certo che la quantità può creare dei problemi però se il fine della quantità è un obiettivo diverso come questo caso per dire che è un po' tutto relativo discutibile però sulla qualità no cioè può esserci anche tanta quantità però la qualità deve rimanere lo standard aggiungo una cosa a quello che ha detto Valentina e l'aggiungo con un punto di domanda anche verso me stesso perché poi io stesso è una riflessione che spesso faccio ci sono i millennial la generazione Z che in una maniera molto strana è molto attratta dalla ristorazione gourmet alta cioè è uno strano connubio questo però questi ragazzi molto giovani sono molto attratti allora un po' sono attratti perché sono immagini molto belle i piatti di grandi chef sono sempre delle immagini molto belle per cui instagrammabili e per cui sono affascinati da questa cosa qua un po' e un po' invece secondo me sono attratti proprio perché questa cosa si fa molto curiosità perché probabilmente vengono da storie familiari diverse dalle mie e dalle vostre in cui a casa c'è mamma e nonna che ti cucina e per cui avendo mangiato un cibo molto più seriale quella roba li affascina molto ora che succede se io sono il canale dello chef con le stelle probabilmente vado su instagram e facebook e faccio soltanto questa roba qui e basta ma in realtà i millennial e le gestioni Z stanno andando su TikTok esatto dopo che non c'è la risposta ve l'ho messa lì come cosa la risposta non ce l'ho però c'è questa discrasia quel mondo molto alto elittario che fino a qualche anno fa era dedicato ai professionisti a gente con i soldi e quanto che invece vive un'attrazione molto forte da parte dei giovani che c'è stata un'indagine qualche anno fa che mi colpì molto che ha una domanda tra una cena da un gourmet e un paio di scarpe nuove fatte a una generazione dei millennial il 60% rispose la cena del gourmet e questo è un dato che ci le fa riflettere a tutti quanti assolutamente anche perché comunque sta cambiando la platea proprio di questi della ristorazione nel senso che stiamo vedendo muoversi di tutto e veramente i social soprattutto sono un teatro aperto sul mondo per cui a volte per converso magari nei posti più tipici lo vedo a Genova nelle trattorie in quelle che noi chiamiamo shamad delle frigitorie vedi arrivare frotte di stranieri dall'estero dagli Stati Uniti dall'Australia o quant'altro e gli vai a dire ma come sei arrivato ti interessano sapere come sono arrivati perché loro proprio cercano cibo tipico e chiedono in albergo ma dove andate a mangiare voi tanto per dire voi tu Luisa tu dove vai a mangiare portami lì quando ti chiedono ti chiedono questo quindi sono tutti e sono anche ovviamente ottimi ambasciatori perché riscoprono magari scoprono anzi dei piatti che gli sono sconosciuti oppure se è un turismo di ritorno anche le ricette veramente della famiglia c'è tutto un meccanismo e loro magari comunicano la prima cosa che fanno ovviamente vanno dal titolare di queste trattorie a dire ti voglio taggare su Instagram o quant'altro figurarsi non sono neanche su nessun cioè non ne parliamo nemmeno però in effetti cos'è un computer però in effetti in certi casi però in effetti si perdono anche delle opportunità considerevoli ora va bene il mercato è fermo però sicuramente il turismo anche straniero anche quello di prossimità per noi la Francia il primo è uno dei nostri principali vaccini quindi questo monitoraggio è abbinata canale target che cambia così velocemente proprio assolutamente vedo che Roberto Vitali perché ha avuto dei problemi di linea e di nuovo mi sembra che ci possa rispondere perché ho al volo una domanda anche per lui sempre restando in ambito alimentare proprio ecco la comunicazione soprattutto di verso la il settore intolleranze e quant'altro anche qua non ci devono essere improvvisazioni d'altro canto chi ha ad esempio una forma di allergia o di intolleranza grave già di suo viaggia attraverso canali come posso dire informativi molto precise tipo viaggio gluten free e quant'altro ma quali spazi ci possono essere diciamo andando a spostarci magari sui casi non sulle allergie per carità ma sulla anche sull'intolleranza meno grave cosa ci puoi proporre intanto è importante fare un'informazione corretta nei confronti dei nostri clienti prima di tutto lo dobbiamo saper raccontare nella nostra home page perché è come quando uno ha esigenze di accessibilità cerca una camera d'albergo le regole sono sempre quelle se tu in home page non mi dici che sei capace di darmi un prodotto che rispetti le mie intolleranze che risponda le mie esigenze è inutile io non vengo a guardare 50 pagine all'interno sappiamo che la capacità di attenzione di una persona su internet oggi come oggi è inferiore a quella del pesciolino rosso insomma arriva sugli 8 secondi mentre sappiamo che il pesciolino rosso arriva a 9 quindi se io arrivo diciamo che mi sento un'attacca sotto il pesciolino d'oris assolutamente in certi momenti quando sono stanca esatto perché se non c'è quell'elemento che ti interessa anche su internet molto spesso mi sento dire ah beh ma noi io ho una struttura ma non mi hanno mai fatto richieste di turismo accessibile nessuno mi ha mai chiesto se ho la camera accessibile pure io ce l'ho da tanti anni è vero che nessuno ti fa le richieste perché tu a nessuno hai raccontato che hai questo prodotto oppure me lo vai a mettere nelle camere nei servizi nel sottomenu del sottomenu dell'extra menu la terza porta a destra chi è che ti trova le informazioni in quel punto quindi comunicare è comunque un elemento strategico guardate tutti si preoccupano di profilare chi va a comprare io assolutamente indispensabile per il marketing sia chiaro però se ci fosse la possibilità di capire quelli che vanno via dal mio sito perché sono andati via probabilmente io imparerei tantissime cose di più tra queste sicuramente ve lo garantisco c'è l'accessibilità ci sono le intolleranze ci sono le allergie c'è quelle esigenze che oggi le persone molto spesso non esprimono perché capiscono che dall'altra parte non hanno un interlocutore è come quando io vado al ristorante e chiedono mia moglie che cosa mangio io secondo te mi metto a discutere non ho voglia di litigare tutti i giorni come me tantissime altre persone esercito quello che fa qualsiasi consumatore bisogna ricordarsi che il portafoglio in tasca ce l'ho io esatto e nessuno mi obbliga a venire a mangiare a casa tua io anni fa durante un convegno con la vice sindaco di Bologna di cui purtroppo non ricordo il nome sarà una cosa di 15 anni fa si discuteva in merito proprio all'accessibilità e all'accessibilità dei luoghi dove si va a mangiare vuoi mangiare bene o vuoi un luogo accessibile dove andare a mangiare se vuoi un luogo accessibile dove andare a mangiare le grandi catene bene o male ormai ti lo garantisco sono tutto vai là poi mangi quello che trovi là se vuoi mangiare il cappelletto fatto a mano dalla sfoglina col ripieno fatto con la mortadella quella buona e magari lì ci devi anche mettere in conto che ci sono due gradini però il problema è che oggi questo non me lo racconta mai nessuno ecco perché dobbiamo avere informazioni oggettive affidabili questo è il lavoro che noi cerchiamo di fare per le aziende oggettivamente sono stato ho scritto in passato itinerari gastronomici per dieci anni è uno degli articoli su cui sono stato più criticato perché sono andato a mangiare in un posto dove c'erano 28 gradini per entrare però io ho mangiato grano tagliatele fatte con il grano camut parliamo di 15 anni fa 20 anni fa che nessuno sapereva che cosa era il camut cibo condito con i lieviti vino biologico fatto con allora io dico io ho scoperto quel posto ho deciso che voglio fare quell'esperienza io ti racconto prima che cosa trovi poi io mi sono organizzato con due amici energumini alti grossi mi sono fatto portare su e giù per i gradini e poi vi dirò tra l'altro non c'era nemmeno il bagno accessibile per potermi andare a lavare le mani ma io quando sono arrivato ho detto guarda mi porti un cattino un asciugamano un po' d'acqua io le mani me le lavo qua e quindi se io faccio però questo tipo di operazione per tutte le persone di fare scelta ma una scelta informata non lo scopro quando arrivo lì esatto esatto grazie mille grazie a tutti veramente sempre ogni volta che ci confrontiamo emergono temi nuovi che darebbero luogo a altri mille mille webinar e approfondimenti e anzi ci fertilizzano e ci fanno venire idee nuove se non vi sono altre domande io passerei la linea a Matteo Beghelli che so che appunto voleva un po' compendiare la serata e fare anche i saluti finali proprio e di anticiparci una cosa importante ecco sì infatti perché il webinar non è ancora finito perché rimane una cosa importante da fare per cui vi chiedo di rimanere ancora con noi e volevo semplicemente ringraziarvi per aver partecipato a questa iniziativa così come volevo ringraziare i relatori e la moderatrici perché veramente tutte le volte che ci vediamo i temi vengono sempre di più approfonditi e sviscerati in maniera sempre originale ringrazio chiaramente anche tutti gli enti che hanno collaborato con noi per realizzare questa iniziativa tutti i colleghi che hanno collaborato e volevo fare un saluto e un ringraziamento particolare alle colleghe di SNART che è appunto la società specializzata del sistema camerale sul turismo che ci ha affiancati per questa attività perché diciamo il loro viso non appare oggi qui insieme al nostro però in realtà hanno fatto tantissimo e hanno fatto squadra con noi ed è una cosa che non è assolutamente scontata ed è per questo che le voglio ringraziare grazie grazie Matteo ringrazio per i ringraziamenti ci ringraziamo tutti e prima la prima cosa che faccio è di chiedere alle gentili colleghe di SNART di lanciare due minuti del vostro tempo il sondaggio finale sulla customer satisfaction sono quattro velocissime domande due con risposta scelta multipla due invece a risposta singola su quelli che sono stati diciamo il vostro feedback circa l'evento di oggi quindi la prima domanda è quali aspetti dell'evento a cui i partecipati ti hanno maggiormente soddisfatto e qua avete la possibilità di scelta multipla la seconda esprimi vi si richiede un livello generale complessivo di soddisfazione e questa è secca diciamo una risposta sola la terza secondo lei secondo voi quali sono gli aspetti da implementare da migliorare quindi le aree di miglioramento e l'ultima riguarda un vostro feedback e riscontro circa le differenze fra un evento fisico in modalità fisica e un evento in modalità virtuale come quello che abbiamo svolto oggi richiede veramente meno di un minuto compilarlo ma è un grande aiuto per il nostro lavoro per mettere a punto format contenuti e strutture sempre più efficace rispondenti ai vostri bisogni penso che siamo in diritto sia in dirittura d'arrivo con i risultati del sondaggio a brevissimo ospite esperti come sempre non possono votare tutte le volte proviamo ma non si può proviamo ma ci abbiamo provato tutti a craccare anche la mannino vedo proprio eccoci allora diciamo che c'è proprio vedete a pari merito le tematiche affrontate l'efficacia degli esperti seguiti poi anche dalla rispondenza dei contenuti c'è un elevato tasso di soddisfazione direi gli aspetti da migliorare l'interazione con i partecipanti questo è diciamo una cosa sulla quale ci siamo confrontati tutte le volte purtroppo non possiamo diciamo anche visto il numero dei partecipanti lasciare il microfono aperto alle domande a tutti perché andremo avanti fino alle calende greche rispetto all'evento fisico anche perché ci si può poi confrontare restare a chiacchierare il famoso dopo convegno che poi è il momento in cui spesso o il coffee break in cui poi si fanno anche gli approfondimenti più interessanti ancora di più però infatti è per questo che c'è la chat che è un succedaneo ma non dimenticate due cose importanti che ha a disposizione la mail per richieste di informazioni o quant'altro che vi verranno inviati ovviamente le documentazioni relative a questo webinar e in ultimo ma non per ultimo che lunedì 21 alle ore 14 si terrà l'ultimo seminario che è quello webinar che è dedicato al food and wine quindi al mondo delle produzioni dai caiseifici fino a le cantine ai produttori di pasta a tutto il comparto food and wine veramente a 360 gradi per cui vi aspettiamo ci faremo anche gli auguri di Natale alla fine l'abbiamo detto che faremo una brindisi virtuale con tutti perché sarà veramente il momento di farsi gli auguri a me sembra di avere detto tutto e vi faccio veramente ancora ancora grazie agli organizzatori un saluto all'Emilia Romagna tutti i colleghi relatori per il lavoro svolto insieme oggi grazie ancora arrivederci grazie a tutti buonasera buonasera ciao a tutti buonasera ciao a tutti grazie a tutti